Grazie a tutti. 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 Soprattutto per la vicenda di Brevian, che ovviamente risponde a una logica che nella scuola mette in discussione processi di integrazione delle runde disabili, al fine di affermare un principio che i deboli sono sempre più deboli e i porti sono sempre più forti. Sono veramente fiero che questa vigente si sia conclusa positivamente, che finalmente siamo stati incisivi e almeno questo problema l'abbiamo risolto. Su questo tema dei disabili siamo stati artefici, anche noi nel passato, come il PLC, di una battaglia che ha visto la categoria battersi per il rispetto della sentenza della Corte Costituitorale numero 80 sul rapporto 1-1 docente all'unno disabili. Perché da noi l'ufficio scolastico spesso dovrebbe nominare un insegnante su un alunno disabili, ma spesso giocano sui numeri e fanno dei rapporti che non sono quelli. Noi siamo riusciti, grazie a Franco Fucci, che stamattina ancora non vedo, che era il mio predecessore, ha fatto una battaglia di carattere legato su questa cosa e siamo riusciti ad ottenere che questo rispetto e il rispetto di questa legge venisse applicato all'emma scuola. Ma quindi io, guardate, non rappresento solo la scuola, ma anche l'università, la ricerca, l'alta formazione artistica e musicale, cioè l'Accademia dell'Empaglia e i Conservatori di Musica. Infatti, per un discorso lungiverante nel congresso del 2006, i gruppi dirigenti dell'Aulora, Sindacato nazionale Scuola, e dell'OFNUR, Sindacato nazionale Università e Ricerca, decisero di fondersi in un unico sindacato, la federazione dell'Aulatore della Conoscenza. Questo percorso di unificazione, sempre più rispondente a un'ottica confederale, continua anche oggi, tant'è che in questa giornata congressuale abbiamo deliberato il progetto sperimentale di durata biennale di unificazione dei tre direttivi dell'FLC di Catanzaro, di Crotone e di Rippo, che porterà ad un unico direttivo per tutte e tre le province, ad un'unica segreteria e ad un unico segretario generale e ad un unico centro di spese. Questa è una novità da noi, Calabria, questa novità dell'unificazione dei direttivi, speriamo che funzioni, è una questione sperimentale, non è stata deliberata a carattere congressuale, quindi non è un cambiamento, diciamo, dello statuto, però è una novità che noi speriamo di portare avanti e che possa rispondere sempre di più alla questione della coalizione delle province e all'accortamento degli uffici scolastici provinciali. Poi volevo fare alcune considerazioni sulla cittura qui. Guardate, qui da noi la disoccupazione giovanile in Calabria raggiunge la punta del 65% e le donne prive di occupazione sono in 41%. Il tasso di disoccupazione nella provincia di Catanzaro è passato dal 13,1 del 2004 al 19,2 del 2012. In più, il numero dei poveri è di 140.000 un'esame e cresce anche un altro dato particolare, guardate, che non viene ricordato, quello dei suicidi. Noi in Calabria abbiamo avuto 711 suicidi dal 2005 al 2013, tra le fasce di età comprese tra i 18 e i 44 anni, e tra questi oltre 70 per motivi strettamente economici. Per quanto ci riguarda poi da vicino, la crisi per noi ha significato un saccheggio eroproprio che ha determinato situazioni insostenibili. Scuole che vivono di elemosina perché è alastrico, laboratori scolastici inesistenti o quando esistenti senza adeguata attrezzatura, classi sovrappolate senza alcun limite normativo, disarticolazione complessiva delle istituzioni scolastiche dovute alla rasionalizzazione selvaggio degli ultimi anni, disprezzo istituzionale nei confronti del personale alto, compressione al limite minimo del tempo scuola, sperimentazione che vanno addirittura a diminuire di un anno i ricerchi, scomparsa della contemporaneità e delle competenze, scarso o nulla l'iniziativa a favore dell'educazione permanente, riduzione forzata della quantità e qualità dell'offerta formativa, decadimento dell'autonomia scolastica, blocco dei contratti di lavoro ormai fermo a 2008, blocco degli scatti, tagli che hanno inciso pesantemente sull'organico provinciale passando dall'anno scolastico del 2009-2010 da 8.827 unità di personale a 7.318 nel 2010, con una fetta di risposta di 1.519 solo per la provincia di Catanzaro. A questo va aggiunto sempre per i nostri elettori il problema dei trasporti pubblici che ormai era collasso e il diritto dallo studio che sembra diventato sempre più un office per i comuni più che un dovere costituzionale. E su questo abbiamo fatto anche la battaglia con l'esame del lavoro, un minuto. E vabbè, se c'è solo un minuto, voglio leggere una cosa. Guardate, una cosa che noi non combattiamo solo per la difesa per lo stipendio e non solo per la difesa per lo stipendio, e per quello che per noi era un esempio di istruzione, però voglio leggere, e se lo rifaccio in un minuto, un articolo di Pietro Calamandrei, che ha pubblicato in Scuola di Avvocati che il 29 avanti del 1950, e Pietro Calamandrei è membro della consulta nazionale dell'Assemblea Costituzionale. Leggo, facciamo l'ipotesi, così esattamente che ci sia un partito a potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione. Non la vuole violare in sostanza, non vuole fare l'anarche sul nome e trasformare le aule in alloggiamento per manipoli, ma vuole istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora che cosa fare per impaloressere le scuole, per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali, c'è una certa resistenza. In quelle scuole c'è sempre, perfino sotto il fascismo c'è Stato. Allora, il partito dominante segue un'altra strada, è tutta un'ipotesi teorica, intendiamoci. Comincia a trasformare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle, lascia che si animizzano e cominciano a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private, le scuole del suo partito, di quel partito. E da allora tutte le cure cominciano ad andare a quelle scuole private. Cure liberale e di privilegio. Si comincia per fine a consigliare ai ragazzi di andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori, si dice, di quelle in Stato. E magari si danno i premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figli a ogni, invece che alle scuole pubbliche e alle scuole private. A quelle scuole private. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. Il partito dominante, non potendo apertamente trasformare le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora la scuola di Stato per la prevalenza alle scuole private. Attenzione, questa è la ricerca. Bisogna tenere l'occhio i cuochi di questa stessa cucina. L'operazione si fa in primi modi, ve l'ho già detto, rovinare la scuola di Stato, lasciare che vada in malora, impoverire i loro bilanci, ignorare i loro bisogni, attenuare la sorveglianza e il controllo delle scuole private, non controllare la serietà, lasciare che insegnano insegnanti che non hanno titoli minimi per insegnare, lasciare che gli esami siano burletti, dare alle scuole private denaro pubblico. Questo è il punto, dare alle scuole private denaro pubblico. Chiudo qui, penso di aver superato, però era importante farlo. Cari compagni e cari compagni, Celebriamo questo congresso in una fase politica molto delicata per la nostra organizzazione. Sono passati solo quattro anni dell'ultimo congresso confederale, ma è come se questi quattro anni sono stati separati da un ventennio. Il ventennio berlusconiano, la crisi dei partiti, la mancanza di ideologie, ha fatto sì che anche i sindacati ne uscissero indeboliti e obbruscati nel proprio ruolo. La gente ha perso la fiducia verso tutte le istituzioni, mettendo nello stesso calderone tutto e tutti. Mentre gli altri sindacati confederali sedevano al tavolo delle trattative con il governo, facendo scelte assolutamente scellerate, la CGL da sola ha fatto vero forza o più più piove in questo Paese, a tutela delle categorie più deboli e dei settori più disagiati. Anche il ruolo del sindacato è cambiato, poiché sono cambiati i tempi, le condizioni di vita e la società. I bisogni sono diversi. Viviamo in una società dove veramente c'è una disparità di vita impressionante e quel che è peggio c'è una forte rassegnazione. Pertanto anche la CGL al proprio interno si è dovuto misurare più volte, più volte con opinioni forti e diverse, ma sempre con libertà e rispetto. Il problema invece diventa serio nella CGL quando si vuole vivere di protagonismo, ma nella CGL ci deve essere spazio solo per chi vuole essere protagonista. Protagonista nella difesa dei diritti dei lavoratori e delle fasce più deboli, soprattutto giovani e anziani. La CGL di Galanzaro in questi quattro anni si è resa protagonista, anche se con grande difficoltà e avversità, di quello che è il proprio ruolo nella società e nella collettività. Si è resa protagonista investendo, soprattutto, e dando grande forza ai territori. Ha dato forza ai territori, essendo sempre presente, facendosi controparte quando vengono lesi i diritti dei più deboli. A loro bianco quando si è trattato di problematiche che riguardavano la collettività con i comuni, gli enti e le regioni. Il segretario nostro provinciale, Giuseppe Valentino, è stato attore principale, senza mai risparmiarsi in qualunque lotta o trattativa patta. Lotta per la legalità, lotta per i diritti dei più deboli, lotta per l'ambiente. Sono stati punti di cui è il combiare. Oggi è giorno di bilanci e rendere merito a quello che si è fatto. Certamente si poteva fare e dare molto di più, ma, come dice la Cantone, non siamo ancora attrezzati per fare miracoli. Ma quello che serve oggi è discutere di quello che vogliamo fare nei prossimi quattro anni. Vorrei che facessimo un programma sulle varie problematiche che applicano la nostra comunità. In particolare, un programma dove mettere come priorità ambiente e salute. Ambiente con iniziative e denunce, là dove lo scempia la natura ecossipelese. Fare prevenzione per i territori. Obbligare la regione ad imporre ai comuni la raccolta differenziata. Incrementare le politiche agricole, con aiuti a che la terra la vuole lavorare. E rispettare. Creando così nuovi posti di lavoro e salvaguardando l'ambiente. Con un ambiente sano si avranno migliori condizioni di vita. E sicuramente un giovane sano sarà un anziano sano. Poi la salute. Basta una sola parola. Prevenzione. Prevenzione gratuita per tutti. Oggi in Calabria c'è sempre meno gente che fa prevenzione. a causa dei tickets e delle poche risorse economiche. Bisogna intervenire. Costringere la regione ad usare l'ISEP. E non la metodologia usata. Dove sono pochi a poter non sfruttare. Tutela sul lavoro. Direte voi, quale è il lavoro? La maggior parte sono tutti disoccupati. E credetemi. L'abbiamo visto quando facevamo le assemblee. Un minuto. Le assemblee nelle camere del lavoro. E' per questo che bisogna essere più vigili. Perché i lavoratori, per non perdere il posto di lavoro, scendono a qualunque compromesso. Sapete qual è il primo? Che non devono essere iscritti alla CGL. Più di una volta, operai di un'azienda commerciale si sono iscritti alla CGL. E dopo, alla prima trattenuta sulla busta paga, il datore di lavoro li costringeva a cancellarsi. Aspetto assolutamente grave. Pertanto, i nostri segretari di categoria, che chiamano in causa, che devono essere sempre più presenti sui posti di lavoro, in mezzo ai nostri iscritti e non iscritti, per poter dare forza ai lavoratori, facendoli sentire sempre tutelati e così rafforzare il proselitismo e il fesseramento. Ed infine, di questo breve intervento, vorrei che si creasse un clima di complicità, di condivisione con tutti quelli che lavorano nella nostra organizzazione, specialmente nella risoluzione dei problemi, delle pratiche, nei bisogni di lavoro, pronti a sostenerci e a farci crescere reciprocamente. Nella CGL non ci stiamo perché qualcuno ce l'ha in posto, ma perché va parte di una nostra scelta di vita, per ideologia, per appartenenza politica. Noi non siamo degli impiegati, ma come dice sempre il nostro segretario, siamo tutti i dirigenti di questa grande organizzazione. Viva la CGL! Compagni, già nel piano per il lavoro, presentato messa dietro dalla CGL, e nei documenti congressuali che titolano il primo documento Il lavoro decide il futuro, c'è in maniera diffusa, in maniera approfondita, e in maniera puntuale quello che dovrebbe essere, deve essere per noi il tema, gli argomenti e le scelte che i governi, il governo, dovrebbe tradurre in cose da attuali. Intanto, la priorità delle priorità, il lavoro. Il lavoro che deve essere oggetto di un piano straordinario, di un piano straordinario in Italia, che può partire, può partire già dall'intervento pubblico. Lo Stato deve intervenire con un bassiccio intervento finanziario per dare le direttive dello sviluppo, orientare lo sviluppo e la ripresa in Italia. Va, d'altro canto, rinegoziato il fiscal compact, e il patto di stabilità europeo che ci ingabbia in parametri finanziari e delle politiche finanziarie europee, va riformata la pubblica amministrazione non nel senso, come da alcuni ambienti si dice, di eliminare, di ridurre gli organici. Non è quella la riforma. La riforma è quella di una migliore e più moderna organizzazione degli uffici e delle amministrazioni che rendano più efficienti e rapidi i servizi da rendere ai cittadini. Necessita una riforma fiscale, una riforma fiscale che parta da una seria lotta all'elusione e all'evasione fiscale. occorre operare una maggiore tassazione delle rendite finanziarie e sgravare invece, di converso, sgravare la tassazione sul lavoro. Non è possibile che chi con i soldi specula e crea ulteriore ricchezza abbia una tassazione all'attuale livello. va portata, come nelle proposte, oltre il 20%. Occorre, d'altro canto, rivedere pure la riforma delle pensioni, il provvedimento che il Ministro Fornero nel governo Monti ha portato del sistema pensionistico italiano alle vette europee per anni di contribuzione necessario per poter andare in pensione. Occorre portare il limite a 62 anni mettendo la gradualità nel poter andare in pensione perché già nel sistema contributivo esiste la penalizzazione e di chi va prima in pensione. Quindi bisogna ritoccare e rivedere il sistema attuale. Necessita anche un intervento quadro, un intervento che indirizzi e che metta mano nel sistema industriale e delle piccole e medie imprese italiane. Noi abbiamo un sistema industriale che è in crisi, è in crisi per sue ataviche e limiti soprattutto quelli dell'investimento della mancata innovazione della mancata ricerca ma soprattutto il tessuto più grosso quello delle piccole e medie imprese delle imprese con 1, 2, 3, 4 dipendenti hanno grosse difficoltà e per l'accesso negato al credito e per anche una tassazione e un'imposizione che va sicuramente di vista al ribasso un'occasione di sviluppo sicuramente deve essere e anche qui dicevo prima lo Stato l'indirizzo l'investimento dello Stato sul territorio ci sono grandissime potenzialità di creazione di posti di lavoro oltre che risolvere in maniera programmata in maniera stabile problemi che quotidianamente applicano parlo delle catastrofe parlo della reggimentazione della messa in sicurezza del territorio parlo della tutela dei patrimoni archeologici dei patrimoni artistici cioè interventi con cui lo Stato spendendo delle somme oltre a creare posti di lavoro evita di spendermi quando poi deve intervenire per mettere mano ai disastri che avvengono quotidianamente sul fronte del lavoro occorre riaffermare e insistere che la centralità del contratto nazionale è un valore ed è un patto che mette tutti insieme ha il carattere dell'universalità nel pubblico bisogna sicuramente operare una diminuzione una razionalizzazione e quindi una diminuzione dei contratti esistenti per molestando che il contratto nazionale è quello che dà il carattere di universalità e di egualità su tutti il territorio nazionale ma oltre a questo il sindacato nella sua generalità deve riflettere anche sul momento di crisi che attraversa orientandosi orientandosi a l'inclusione di tutte quelle fasce del lavoro precario del lavoro non lavoro del lavoro nero noi sino ad oggi siamo stati quelli che hanno rappresentato il lavoro sicuro il lavoro tutelato il lavoro fisso bisogna mettersi nelle condizioni organizzative politiche di idee di proposta di includere tutto il panorama del mondo del lavoro nelle nuove forme che si sono create oggi finisco dicendo che questo sicuramente consentirà e la CGL ne ha tutte le capacità tutte le potenzialità consenterà di continuare ad essere quella grandissima organizzazione che grandissima la più grande in Italia e in Europa che assoggia circa 6 milioni di iscritti e di continuare perché anche questo spesso ci è stato riproverato di supplire in certi tangenti alla politica alle proposte alle idee e alle determinazioni della politica noi come corpo sociale che rappresentiamo il lavoro tuteliamo il lavoro e i diritti non abbiamo non abbiamo timore di continuare quando serve e se serve di farlo applausi vorrei provare a declinare un po' ancora il pezzo che riguarda più da vicino il lavoro e la precarietà partendo dalle condizioni che Giuseppe ha illustrato nella sua relazione una relazione di cui ho apprezzato la freschezza nella esposizione ma che rispetto alla quale se aveva ragione Giuseppe se noi andiamo a prendere Giuseppe che ha riletto la sua di quattro anni fa ma se andiamo a riprendere le relazioni degli ultimi quattro congressi troveremo un pezzo di quella relazione una battaglia giusta dal punto di vista del principio e dal punto di vista della legalità parlo della diga del merito è ormai una costante degli ultimi cinque o sei congressi è immaginabile una nostra azione che si tara su una lentezza di ordine burocratico e di realizzazione della spesa pubblica in Calabria è un paradigma non è la diga di merito è la lentezza nel quale si svolgono e vengono realizzati gli investimenti in Calabria investimenti di risorse ordinarie che hanno la caratteristica di sostituire quelli per investimento cioè la Calabria e questo territorio hanno o non hanno trovato una loro vocazione è compatibile una immaginare una realizzazione di una grande diga che poi diventa una mini diga contemporaneamente alla realizzazione di luoghi di stoccaggio per i di più di queste discariche la vocazione turistica di questa provincia sta dentro un piano organico che questa regione ha sul modello di sviluppo delle aree interne e costiere io credo di no se è vero come è vero che negli ultimi venti anni costili diversi ma ci troviamo ad affrontare le stesse questioni e congresso dopo congresso sono le priorità cioè quando le priorità non cambiano significa che l'azione politica è lenta o immobile qual è dal punto di vista del congresso e del documento al quale io ho aderito il lavoro decide il futuro non la ricerca ma il contributo programmatico di proposta rispetto ad una situazione di questo genere nel pezzo che riguarda la riforma della pubblica amministrazione un ruolo fondamentale ce l'ha la sturocratizzazione è uscire da quello che Torino prima definiva i raccoli i vincoli dei parti di stabilità interni non dimentichiamo che in una regione come la Calabria l'Europa è stata vista come un vincolo opprimente e non come una opportunità se pensiamo che le politiche industriali sociali dei vari stati sono stati decisi non dagli stati sovrani ma dalla BCE dalla banca centrale europea che è nata per controllare le banche e aiutare gli stati ha finito per controllare gli stati e aiutare le banche quindi il suo ruolo l'Europa lo ha perso nel momento in cui ha sostituito a una idea di cittadinanza europea l'idea di una austerità sovrastatale nel piano per il lavoro qual è il pezzo che riguarda più da vicino quello che seguiamo come categoria è sicuramente gli investimenti di natura triennale o quinquennale pubblici di cui non dobbiamo vergognarci di chiedere una immediata attuazione e che vadano nella direzione della sicurezza ambientale dal punto di vista della tutela dal punto di vista del rischio idrogeologico e della gestione dei rifiuti dal punto di vista della tutela dei beni culturali che vanno recuperati e valorizzati e questa provincia ha una ricchezza notevole da questo punto di vista e rispetto a investimenti di natura triennale e quinquennale anche di lavoro a tempo determinato ma ben pagato che riguardino i servizi lo stato sociale e quindi il web perché? perché in un periodo di crisi estrema quale quello che stiamo vivendo in cui si restringono le opportunità bisogna aumentare le tutele e non diminuirle il ministro Poletti ieri parlava di un superamento dello strumento della cassa in deroga degli ammortizzatori in deroga è una cosa che noi stiamo dicendo da tempo ma non lo stiamo dicendo con lo stesso spirito del governo noi sosteniamo che accanto a misure di natura lavoristica vanno immaginati strumenti di carattere che si agganciano alla fiscalità generale e che vanno a sostituire le misure lavoristiche quando diventano redditi di ultima istanza ossia quando uno strumento come la cassa intero o la mobilità diventa un sussidio perde la sua funzione anticrisi e visto che la crisi ha ormai devastato del tessuto sociale di questo paese occorrono misure di diverso genere misure universalistiche voglio e in questo in questa ottica di investimenti pubblici al fine di rilanciare i consumi collettivi questa regione questa provincia l'Italia ha bisogno di rilanciare i bisogni i bisogni collettivi che sono anche consumi di servizi la contratualizzazione di LSU e LPU dentro questa ottica ci sta tutta mi rendo conto che il tempo è finito e voglio riprendere un pezzo che lanciava ieri il compagno Marchese quando parlava di varietà e non di diversità io vorrei ricordare a tutti voi a tutti noi che è recentissima una dichiarazione devastante del presidente Scopelliti quando dice Forza Italia e Calabria non candiderà gay candiderà solo uomini che amano le donne sarebbe opportuno invece che Forza Italia e tutti i partiti che sarebbe ora che Forza Italia e tutti i partiti cominciassero invece a candidare uomini e donne che amano la Calabria e rispettano le istituzioni e questo sarebbe davvero una varietà apprezzabile da parte della politica intanto porto il saluto delle ragazze e dei ragazzi del nostro al congresso della città è vero la relazione di Giuseppe non è stata né ripetitiva né banale ma non perché Giuseppe ha lavorato di fantasia perché penso che sia lo spaccato e il vissuto che l'attività della Cigelle di Catanzaro ha sviluppato in questi quattro anni praticamente l'attività della Cigelle si è diversificata rispetto ad una serie di temi che non sempre vivono all'interno della nostra organizzazione ma che comunque insomma sono importanti perché ci avvicinano alle persone che noi dovremmo rappresentare sia i lavoratori che sono iscritti là anche sia naturalmente le persone i giovani che stanno studiando che anche vivono di spicoltà che praticamente hanno visaggio all'interno della società nostra ebbene noi con in questi quattro anni praticamente abbiamo un po' parlato a tutto il popolo della provincia di Catanzaro abbiamo fatto una serie di iniziative importanti qualcuna promossa dallo SPIA altre sono promosse dalla Cigelle alle quali hanno partecipato tutte le categorie della nostra organizzazione penso per esempio a quella sulla intergenerazionalità che c'è stata alla mezza terra qualche tempo fa alla presenza della compagna Gallacantone con tutti i studenti medi della città di la mezza noi abbiamo discusso di come è importante la salvatura e di come sia fondamentale la salvatura tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni che si devono opporre il problema di raggiungere e realizzare obiettivi comuni sia per quanto riguarda il lavoro ma sia per quanto riguarda naturalmente come dire la possibilità di rendere più civile la società italiana o quella sulla memoria o quella sui campi della legalità che ha visto praticamente partecipare alle nostre iniziative alle mamme del bigiuno di Siciliana insomma o i campi della legalità dove ha partecipato lo spie e la città di Catanzaro cioè praticamente abbiamo o altre attività culturali che la città di Catanzaro ha sviluppato nel corso di questi anni io ritengo che appunto la relazione di Giuseppe è il frutto dell'iniziativa che la città di Catanzaro ha sviluppato non un fatto di fantasia è un fatto che ha posto il problema di rilanciare l'attività che è stata o comunque di rivinguare l'attività che è stata alla base di questi quattro anni ritengo che sia molto molto importante che sia fondamentale per lo sviluppo futuro delle nostre iniziative io vedete ritengo che non voglio farla lunga lo spie in questi quattro anni è stato presente ha sviluppato una serie di iniziative non voglio qui elencarle l'abbiamo già fatto al congresso provinciale della nostra categoria ma ritengo che alcune cose rispetto all'area centrale della Calabria vanno dette vedete noi dobbiamo assolutamente tentare di valorizzare intanto il nostro territorio io ritengo che forse qualche riflessione noi dovremmo rivederla rispetto a degli stereotipi che praticamente ci hanno guidato nella corsa di questi anni è importante vedete assegnare un ruolo al corso di gioia ma non può essere no l'attività della Cigelle Calabria o l'attività della Cigelle di Catanzaro di Reggio di Cosenza non può essere praticamente ingambiarla all'interno di una cosa che è importantissima ma io credo che sia molto più importante no fare in modo che il territorio marcio di questa regione sia unificato e sia risanato che il territorio marcio diventi produttivo altrimenti il porto non ci serva a nulla che diventi produttivo e che possa avere la possibilità di mandare leggi all'esterno di mandare produzione all'esterno nella nostra regione quindi creando sviluppo creando come dire valore aggiunto altrimenti parliamo di sovrasculture che servirebbero ma se ci for ma poi un po' sull'offretto no che cosa abbiamo detto che cosa serve un po' sull'offretto se poi no la linea ferroviaria è quella che è se poi praticamente le tarifizzare insomma no rischiano di cadere perché non sono consolidati o comunque non sono definiti ancora non sono completati che cosa serve se i comuni montani stanno praticamente depilando al mare e non si interviene per fare un piano serio non su un patrimonio veculto abitativo delle nostre regioni se non si crea lavoro all'interno di queste regioni e io ritengo che un po' dobbiamo rivedere il modo di pensare di concepire i vostri gruppi in Calabria e in Corazza perché se dovessero attendarsi ancora no mentre la Calabria praticamente depilano al mare mentre sta succedendo e non pensiamo che è fondamentale il FUDO che non voglio farla lunga che è fondamentale praticamente un piano di risanamento ambientale e un piano di risanamento che praticamente parta dal consolutamente della valorizzazione delle risorse che abbiamo trovato a partire anche dalla valorizzazione del regno no da questione che ha posto Giuseppe nella relazione avevamo posto nella questione di dire vabbè non possiamo dire no no ma cerchiamo di qualche proposta di farla ebbene siccome la selezione praticamente non c'è riciclo dei perche' non ci dobbiamo porre il problema pure noi noi in Calabria di riciclarvi di creare lavoro di non pensare che sia soltanto un pecio di chiudo ma che può essere anche un'opportunità come dire di lavoro e di sviluppo per la nostra e abbiamo divinamente avanzato qualche proposta speriamo che le proposte che ha avanzato la CGL che sta avanzando qui e le altre categorie della nostra organizzazione diventino proposte che meritino l'attenzione delle forze politiche dei partiti non è più vicini ma fondamentalmente diventano il progetto di discussione di chi poi la decisione dovrà assumere grazie ci sono dei compagni che non hanno firmato quindi dovrebbero scegliere lo stanno azzanato grazie vorrei fare questo intervento mi intervento non volevo che è solo un piccolissimo contributo rispetto alla ventità della discussione ma la ventità è all'antissimo orizzonte forse che come mai per lo meno per la mia esperienza in CGL in diversi anni nel congresso di stesso questo documento congressuale il lavoro decide il futuro ha posto come orizzonte e la relazione del nostro segretario Giuseppe Valentino mi ha dato tutto il taglio un taglio che comunque è stato anticipato da un'azione concreta che prima di me ricordava il compagno Gianni ma anche i precedenti interventi nel senso che nel nostro comprensorio grazie anche alla motivazione quella motivazione che ieri ha già instillato nelle sue parole Giuseppe ha fatto in modo che si potessero intravedere anche altre modalità il dove il come e il quando la gire sindacale e della nostra CGL può dispiegare i suoi effetti il modo il modo e il dove il sindacato in questi anni ha visto fortemente ridimensionato il suo ruolo a causa di politiche scelerate a tutti i livelli ma di scelte in particolare a livello del nostro paese che hanno cercato di togliere il riconoscimento che pure il Consiglio ha già quindi si è incisa su una parte della democrazia di questo paese della rappresentanza dei lavoratori dei pensionati delle fasce debole delle fasce sociali che noi sempre per cui siamo nati e per cui continuiamo ad esistere il Consiglio Sicuramente sbaglia chi dice non avete ottenuto niente no allora io ho imparato negli anni anche per avere avuto un padre mio padre si chiama Avrara chi lo conosce non dico niente mi fermo qui ma aveva quello stesso spirito che diceva Giuseppe Valentino anche se non si ottiene non lo tocchi fai un'accine vuol dire che comunque qualcosa significa farlo bisogna individuare il come il dove e il quando allora sicuramente in Italia si voleva assolutamente servire il potere di indagare a tutti i livelli tant'è che il disegno perverso di Brunetta e compagni era quello di mirare sia sul versante del lavoro privato come su quello del lavoro pubblico i diritti da una parte e anche quello che erano poi il versante diciamo economico quello che forse non ci si è fatto ma che questo congresso lo pone i documenti lo pongo nella discussione che si sta sviluppando è l'Europa l'Europa vista su due fonti uno sicuramente è quello politico governativo staremo a vedere cosa farà Renzi e Compagni e dimenticare determinate cose ma l'altro è dire abbiamo una legislazione europea che è poco conosciuta abbiamo una forza sindacale europea che può fare delineare quelle cornici quelle cornici che poi possono trasformarsi in cornici uniformi nei paesi unico applicare perché aver aperto le frontiere anche al lavoro ha significato però con i meccanismi che abbiamo vissuto una rincorsa del mercato a dove il lavoro costasse di meno a dove i diritti si potevano cancellare allora una cornice di a partire da minimi salariali da uniformità professionale le cornici non le leggi perché sennò poi come sindacati non ci stiamo penso che su quel versante e anzi per quello che parlo velocemente per sintesi mi capite contro una questione di metodo da mettere a fuoco da mettere in pratica ovviamente con le specificità a partire da quei livelli ma a partire anche nel nostro singolo territorio nel comune con un nuovo anche modello di contrattazione sociale perché se non riusciamo ad incidere su quelli che sono i processi organizzativi saremo in grado noi di dire nel piccolo comune come poi nelle realtà più grandi a dire qui che devi tagliare però mentre tagliare qui devi fare quest'altra cosa però la barra che si deve tenere ferma è la garanzia dei servizi universali siano essi gestiti o appaltati a privati e attraverso questa andare a vedere cosa si può fare da inerte a ricchezze in un paese che sono un po' gli interventi che mi hanno preceduto su tutti i versanti negli altri paesi trovano due pietre dell'era neolitica ne vanno tesoro ci guadagnano soldi fanno posti di lavoro e creiamo poi un indotto di ogni genere e allora significa progettare e se la rappresentanza di una parte ormai maggioritaria del paese che noi rappresentiamo vista le condizioni economico socio culturale del paese dobbiamo avere la nostra parte forse su più fronti dal piccolo come sul grande allora la frontiera europea significa rivendicare attraverso anche i sindacati europei quelle con mici finora in tutti questi anni che comunque un impegno c'è stato l'unico accordo forse se non mi spallo qualcuno mi correggerà è stato quello di avere un accordo sugli orari sull'orario insomma tra l'altro mal recepito e in maniera molto brutta al livello e dopo di che rivendicare quello che ci sono e stanno ancora in piedi alcuni accordi alcuni protocolli a livello europeo dei diritti di sanità della cultura della crescita dello sviluppo dello studio allora quelli bisogna mettere insieme allora hanno smantellato un puzzle cerchiamo di costruirlo nuovo con una visione diversa e nuova è ovvio che qualche volta noi dobbiamo anche accettare di star dentro a degli incontri a degli accordi scusatemi che magari non sono proprio quelli che ci piacciono ma che ci permettono dal di dentro quel mio papà mi insegnò da dentro riesce a cambiarle le cose da fuori se non hai la forza rischi di sbagliare grazie grazie un altro motivo come molti di voi santo la camera del lavoro è iscritta a Libera Catanzaro ma non solo è iscritta ha partecipato attivamente dall'inizio dei nostri lavori di preparazione come Libera quindi anche Giuseppe come noi ha fatto della pericolosità della similità organizzata nel mondo del lavoro non per niente il nostro coordinamento da poco nato da ottobre è dedicato a due vittime innocenti di mafia a due lavoratori due lavoratori che sono Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano sono due nei più urbini di La Messe Eterne vittime innocenti di mafia che si sono trovati sono trovati come capi espiatori come vittime sacrificali in una guerra molto più grande di loro che è la guerra degli appalti per quanto riguarda l'immondizia quindi gli appalti sull'immondizia alla Messe loro sono stati uccisi nel 1991 ad oggi nessuno è stato condannato per questo delitto due vittime dimenticati come sono dimenticati molti lavoratori che si trovano ogni giorno a combattere con la criminalità organizzata e la pericolosità della mafia nel mondo del lavoro si esplica in vari modi vedo che io non vado in minuti però cercherò di tenermi nei sette minuti però cercherò di tenermi nei sette minuti allora la mafia è pericolosa adesso per il mondo del lavoro per tanti motivi sia per chi come Pasquale Cristiano e Tramonte sono trovati vittime in una guerra molto più grande di loro ma non solo in questo periodo di crisi così forti di crisi economiche di aziende che chiudono loro sono diventati anche sono in quella parte molto forte dove è molto forte il rischio usura mentre prima l'usura che vi ricordo è il secondo introito per la mafia era sempre legato agli industriali agli imprenditori agli commercianti adesso sono molti i lavoratori che si trovano in questa situazione perché verso il lavoro la maggior parte ha mutico le banche posizione aperte con tantissime finanziarie e venendo venire il lavoro sono costretti anche loro ad andare negli furai e a diventare ancora di più ricattabili dalla criminalità organizzata ma non solo il lavoro la mancanza di lavoro crea una situazione per cui un'economia drogata dove le aziende lavorano in nero vengono gli appalti con tantissime tutti come la gestione degli appalti in Calabria e in Italia e questi lavoratori si trovano senza nessuna tutela senza sindacati perché non se ne può proprio parlare in queste aziende di chiamare i sindacati ma senza nessuna rete di garanzie sociali questi non risultano assunti lavoro nero perdono il lavoro vengono licenziati a mani andati a casa e si trova terreno fertile per perché questi lavoratori diventino sempre di più manovalanza della criminalità organizzata quando si dice che la mafia porta lavoro non c'è niente di più sbagliato perché se fosse così ragazzi ragazzi dovrebbe essere tipo il nord est d'Italia perché qua c'è la criminalità non solo qua ma qua è più pregnante della criminalità organizzata eppure siamo la terra più povera d'Europa quindi non è assolutamente vero dove c'è la mafia purtroppo c'è povertà c'è tanta povertà e mancano i diritti quindi questo credo che sia l'importanza soprattutto della Cigeli del mondo del lavoro Giuseppe l'ho capito partecipando attivamente a Libera di parlare sempre di più di parlarne di mafia perché parlandone e conoscendola si può essere più uniti e più consapevoli per poterla combattere grazie spero di essere dato grazie per quello che sta facendo per ricordare che il 22 di marzo quest'anno non è il 21, quindi ci permetterà anche di partecipare perché nel senso c'è una segnata al congresso regionale, ci sarà una manifestazione nazionale latina alla quale la cg e la radditta abbiamo fatto 10 posti nel pulmone insieme all'altra associazione per cui ci sono un invito ad esserci, nonostante, non più vecchie. Grazie, grazie. Michela, Michela Veloso. Paola, la ministra è parola. Allora, compagni, buongiorno a tutti. Mi sarebbe piaciuto oggi, in occasione del Congresso della Camera del Lavoro, di fare un intervento inerente ai temi trattati nel congresso della FICT e quindi parlare di infrastrutture, di investimenti di lavoro, di speranze e di altre cose più belle. Ma, e vi chiedo scusa se la mia voce trema e sono emozionata, ma quello che è successo ieri, cioè lo scontro dei due treni, mi impone una riflessione seria su quanto è avvenuto. Per due motivi. Uno perché l'entendo che lo erano io. E il secondo motivo è perché purtroppo c'è stato e c'è uno sciacallaggio mediatico che fa paura come al solito. Perché quasi quasi, mi dispiace perché vedo che ci sono giornalisti in sala, però quasi quasi sembra che se non metti un titolo grande così, 80 feriti, la notizia non importa a nessuno. Quando invece bisognerebbe riflettere su un'altra cosa, che al di là di chi è la colpa, al di là di quello che è successo, avete visto le foto dei due treni, avete visto le lammiere schiacciate, là dentro ci sono persone, ci sono lavoratori, anche iscritti alla GGL. Lavoratori che hanno rischiato la vita per mancati investimenti, perché lasciando stare di chi è la colpa può succedere brutto. Quando si è in auto si commettono cavolate. Io ho un fratello che ho perso perché in auto ha commesso una cavolata ed era in una lamiera, non era con una BMW, era con una 126. E quindi la riflessione è che forse i lavoratori, i nostri lavoratori, rischiano la vita e i lavoratori che erano fu quel treno, che adesso sono ricoverati in ospedale, rischiano la vita per mille euro al mese. Perché tra l'altro, l'altro sciacallaggio che ci fu all'epoca quando siamo stati assunti noi giovani, fu quello che chissà che cos'era successo, ma siamo stati assunti con un contratto che non esiste. Mille euro. E l'antefatto di questa storia è che proprio la sera prima avevamo avuto un'assemblea con questi lavoratori e abbiamo discusso della sicurezza. Abbiamo discusso proprio della sicurezza dell'esercizio, delle automotrici che sono vecchie, delle automotrici che andrebbero sostituite con nuovi treni. Abbiamo discusso delle loro condizioni di lavoro, delle nostre condizioni di lavoro e poi il giorno dopo la tragedia, dico io, spiorata, perché sicuramente, voglio dire, non siamo tutti cattolici, ma io sì, e sono convinta che è stata la vicina Madonna di Porto che ha salvato, diciamo, le vite su quel treno. Allora io, cioè, sono convinta che purtroppo queste condizioni di lavoro sono diffuse e non, diciamo, non sono, in alcune realtà sono molto di gran lunga peggiori della, diciamo, delle nostre, perché non siamo, voglio dire, in condizioni così estreme, però su questo noi dovremmo riflettere, più che sul, cioè, su una condizione, una cosa che purtroppo succede, perché il trasporto, la ferrovia non è una cosa scontata come spesso succede, cioè, nel nostro immaginario, noi, cioè, viviamo il trasporto come i giocattolini, i trenini dell'anima, che prendi il pulsantino e il treno parte. Il treno, come gli aerei, come, insomma, tutti i mezzi di trasporto di una certa consistenza, hanno dietro delle persone che lavorano, delle persone che ragionano, delle persone che studiano, delle persone che intervengono, e non è tutto così scontato. Allora, io mi auguro come categoria, non solo provinciale, ma anche quella regionale, che si faccia luce su quanto è avvenuto e che, soprattutto, si faccia una battaglia, non solo, ripeto, per la firma, ma per tutte le categorie, per tutti i lavoratori, affinché le condizioni di sicurezza sul lavoro vengano migliorate e adeguate. Perché è vero che il lavoro non ce n'è, è vero che ci sono un mondo di precari, ma anche quelle poche persone che hanno un lavoro, devono avere il diritto della tutela, della loro sicurezza, perché, cioè, queste sono cose che le aziende le fanno chiudere. Sembra una banalità, ma un'azienda che non riesce ad assicurare un servizio, c'è un'azienda che non riesce ad assicurare un servizio nella piena sicurezza e nella totalità. C'è un'azienda che può chiudere, tanto più che l'accanimento su ferrovia della Calabria. È stato, voglio dire, negli anni alimentato, anche con falsità, anche con cavolate. Io ricordo quando ci è stato chiesto di tagliarci il 30% del stipendio, cioè allora dicevano, perché l'azienda stava fallendo, dicevano che noi guadagnavamo delle cifre stratosferiche. Allora, una buona parte di lavoratori di fatoria della Calabria guadagna meno di 1.000 euro al mese, meno. Un'altra parte è qualcosa in più perché deriva da una vecchia contrattazione. Fatto sta che a tutti è stato tolto il 30% perché la politica sosteneva che noi avessimo degli stipendi statosferici e questo accanimento, voglio dire, ha penalizzato sempre, sempre, sempre i lavoratori. Adesso basta, cioè adesso basta. E poi soprattutto, e concludo perché è difficile per me, cioè vi tranquillizzo perché sono stata in ospedale stamattina che è la cosa più importante e grazie a Dio i tre feriti, non gli 80, i tre feriti stanno bene. Uno, il compagno, insomma, nostro, iscritto alla città del macchinista, è un po' scioccato, però sotto osservazione è al posto, la donna è incinta, è tornata a casa, il bambino sta bene, c'è solo un ferito un po' più grave che è l'animazione, però non è in pericolo di vita, quindi questo credo che sia la cosa più importante. Io concludo perché non riesco sinceramente a andare più avanti, vorrei concludere solo con un augurio, che nei congressi si possa parlare veramente di speranze e di politiche e di idee che possano creare veramente questi di lavoro, non parlare più di tragedie sul lavoro perché è una cosa peggione di sindacato, secondo me, grazie. I compagni Averoso, Bertuzzi, Borelli, Calchiti, Carlei, Consone, Cucurioniti, Frucci, Marchese, Minniti, Montesano, Potente, Santoro e Sodaro sono pregati di felice, c'è il milione della commissione politica. grazie. Se vuoi dire chi deve portarsi con noi? Sì, sì, sì. No, no. Ti stiamo a pericolò. Buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce sono Paolo Recianilte, dato che lì c'è scritto FIT, no, io sono della funzione pubblica e lavoro in fagioli. a prescindere dal fatto che condivido la bellissima e sentita e sanguigna relazione di Valentino e che comunque condivido e avrei potuto dire molte cose su quello che poi ha detto il nostro secretario Gravano che ha anticipato la comunità. Oggi io voglio dedicare il mio intervento a due temi a me molto cari. Il primo, visto che domani è l'8 marzo, è un tema dedicato alle donne. In terra di Indrancheza il mio primo pensiero e ringraziamento va a quelle donne che con forza, coraggio e determinazione lottano contro il potere mafioso da sempre radicato sul nostro territorio e in particolare nelle politiche amministrazioni. Faccio un nome su tutte, Maria Carmela Lanzetta, ma voglio anche ricordare quelle donne antimafia, quelle malte, sorelle, mogli che hanno visto i loro cari ammazzati e non si sono rassegnate, non hanno taciuto ma con coraggio hanno rotto l'omertà, hanno denunciato, testimoniato, rischiato alla loro vita e a quelle che la loro vita invece l'hanno persa per salvare i figli. Un nome su tutte, Leo Carrosano. Ci sono invece quelle donne che in una regione come la nostra, a causa di tanti alle politiche sociali, se hanno tra virgolette la fortuna di avere un lavoro, un pezzo di lavoro, devono fare i salti mortali per adempiere tutte le inconvenienze familiari, lottando contro la carenza di abilità, scuole materne, strutture per anziani, per diversamente abili e l'insufficiente o assenza di servizio social sanitario sul territorio. Un alto percentuale di donne si trova costrette a rinunciare al lavoro per tutti questi motivi. Ci sono poi quelle donne che lottano contro la violenza e per violenza intendo le violenze di ogni genere, stalking, molestie sessuali, violenze in casa e fuori e purtroppo anche sui luoghi di lavoro. A proposito, è notizia fresca di ieri di una diciassettenne di tropea malmenata dall'ex fidanzato di 22 anni. È importante anche l'età. Oltre il 50% delle donne subiscono violenza dal marito, il restante 50% da sconosciuti e da capo ufficio colleghi di lavoro. Può sembrare assurdo, ma sono 1.308.000 le donne che hanno subito molestie, violenze o ricambi sessuali sul lavoro nel corso della vita. La molestia sul lavoro è traversale a tutte le donne, ma di più a quelle tra i 35 e i 44 anni che lavorano nei trasporti, nelle comunicazioni e nella pubblica amministrazione. Il 91% delle donne non ha denunciato un stupro o un tentato stupro sul luogo di lavoro. Molte di loro hanno preferito cambiarlo il lavoro, quando possibile. Sono state sottoposte a ricatti sessuali per mantenere il posto o per essere assunte 903.000 donne e per molte di essi i ricatti si ripetono del tempo e anche qui la maggior parte di esse non ha denunciato. Ma il dato più grave è che quando denunciano, l'esito in maggioranza è negativo per le donne. Quasi il 60% ha cambiato lavoro o ha rinunciato alla carriera. Solo il 6% è risolto, il 3,5% è stata licenziata e solo nel 4% dei casi è andato via l'unico. Questi sono dati di stop. Voglio aggiungere anche la violenza psicologica. Per esempio in un'azienda come quella dove lavoro io, le donne che fanno valere i loro diritti e parlo di diritti tipo quelli delle lavoratrici madri, vengono poi vessate psicologicamente per farvela pagare e parliamo di aziende pubbliche. A voi le considerazioni. Il secondo tema che voglio portare alla vostra attenzione è quello della sicurezza sui posti di lavoro, mi ha preceduto la compagna Venoso prima. Abbiamo assistito ieri a un caso grave che poteva avere riscolti più tragici nell'incidente da Calabro e delle morti bianche. I dati INAI ci dicono che in Calabria nel 2012 gli infortuni dediciati hanno registrato una pressione dell'11%, ma stiamo attenti, questo è anche dovuto all'aumento del lavoro sommerso. Ma purtroppo sono aumentati gli infortuni mortali, in ambienti di lavoro straordinario e ordinarie sui dati e in operazioni di lavoro. Chiaramente sono coinvolti in alta percentuale anche lavoratori stranieri. La comunità più colpita è quella romena, a cui appartengono anche 4 vittime su 37. Pensate che alla data del 5 marzo 2014 avanti i morti sul posto di lavoro in Italia sono già 68. Se ci aggiungiamo i morti sulle strade in itinere e in categorie con assicurazioni proprie, il numero è già arrivato a 140. voglio chiudere questo intervento con una poesia di Carlo Soricelli, proprio sulle morti bianche che ha scritto poco più di un anno fa. Chiamatele pure morti bianche, ma non è il bianco dell'innocentra, non è il bianco della purezza, non è il bianco candido di una nevicata in montagna e il bianco di un renzuolo di mille renzuoli che ogni anno coprono sguardi fissi nel vuoto, occhi spalancati nel terrore. Dalla consapevolezza che la vita sta scappando via, un attimo eterno che toglie ogni speranza, l'attimo di una caduta da diversi metri, dall'esalazione che toglie l'aria nei pulmoni, dal trattore senza protezione che sta schiacciando, dall'impatto sulla strada verso il lavoro, dal trastuono dell'esplosione che lacera le carni, di una scarica elettrica provata lungo al cuore. È un bianco che copre le nostre coscienze, è il corpo martoriato di un lavoratore, è il bianco di un tramonto livido e nervioso, di una vita che si spegne lontano dagli affetti, di lacrime e di disperazioni di chi resta. Anche quest'anno, oltre mille morti si riferisce a tutti in un'unità, vite coperte da un lenzuolo bianco, bianco ipocrita, che copre sangue grosso, è il nero scorco di una democrazia per pochi, vite perse per pochi euro al mese, da chi è spesso solo moderno schiato. La CGL è sempre stata impegnata su questi due temi che ho affrontato, ma credo che noi dobbiamo ancora fare di più, non l'abbiamo fatta abbastanza, ma dobbiamo fare di più. Basta violenze di ogni genere, basta morti sul lavoro. Buon lavoro a tutti noi e come sempre, grazie alla CGL e viva la CGL. Io penso che non possiamo non ricordare il lavoro svolto durante i concorsi. Sono stati giorni, sono state settimane importanti che ci hanno visto in discussione con i lavoratori, su due documenti, tra l'altro erano completamente alternativi, sono stati contributi importanti dei lavoratori e soprattutto dei lavoratori attivi. La richiesta è drammaticamente efficace, lavoro, 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 lavoro. La sostanza di tutte le nostre discussioni è questa, se c'è lavoro discutiamo, se non c'è è un problema affrontare tutta una discussione su come ricominciamo le tutele, dai lavori, dalle cose che noi cerchiamo sempre di riconquistare. Diciamo la verità, anzi facciamo delle consapevolezze, ne parlava ieri Michele, è stato, come dire, anche questo un quattro anni di crisi continua di questo paese. Era un paese che era già in crisi del 2008, un paese che ha continuato una crisi, il sindacato in generale, noi come Filtrum, ci siamo trovati a difendere ogni piccola cosa che apparteneva alle conquiste del passato. Abbiamo rinnovato contatti importanti a livello nazionale, contatto dell'energia, del gas acqua, dell'aroma plastica, della chimica, ma sempre il lancio in resta rispetto ad un mondo del lavoro che stava cambiando e rispetto a questioni che le aziende volevano rimettere in discussione. Abbiamo cercato di farlo in PIT, ma anche affrontando la discussione con un documento specifico di categoria, perché diciamoci la verità, anche questa è una consapevolezza, un congresso che si tiene con quei documenti in mezzo ai lavoratori, non viene dicendo tanto. Come dite, ma abbiamo fatto una scelta di un documento di categoria che racconti di più e meglio le questioni del lavoratore che andiamo a trovare e quindi è da conta della politica energetica, è da conta della contrattazione, delle relazioni industriali, della nostra visione dell'acqua. E in mezzo ai lavoratori in questa discussione conquistuale ci siamo provati ad affrontare anche il dettaglio dell'accordo sulla rappresentanza importante, era atteso, la parte finale di una discussione è cominciata il 28 giugno e che viene dimenticata da noi come la migliore delle conquiste possibili in questo momento. E quindi da questo punto di vista anche le volenti intervenute in ambiti anche fuori dalla nostra regione sulla rappresentanza si presta una discussione interna, ma non che i lavoratori non comprendano che fosse stato accorto l'ultimo regolamento sulla rappresentanza. Brevemente, e parlando di consapevolezza, dobbiamo avere la consapevolezza e il lucratio di dire che questa Calabria va rifondata e che in questa calabria c'è stata di delegazione territoriale, c'è di delegazione sociale, c'è una difficoltà di insieme a rappresentare le relazioni del lavoro perché nel frattempo il territorio ha disegnato anche le persone. Da questo punto di vista i richiami, niente erano stati parti, ma per la categoria potrei aggiungere, e i rifiuti e l'energia e l'acqua sono settori che se non vengono visti la loro interenza, rischiamo di perdere nel pilo conduttore questa Calabria, i suoi problemi dal punto di vista più generale, la vocazione della Calabria, noi dobbiamo immaginare non la vocazione dei singoli territori, Gianni raccontava del porto di Giulia Tauro, ma è per dire che questa Calabria deve ritrovare una sua vocazione verso il lavoro e verso le attenzioni del territorio. Non riusciamo più da tempo a raccontare che cos'è l'esperienza della Calabria, che cos'è questo mezzogiorno, che crido di dolore arriva da questa terra che è una terra più assurda del tutto, quindi io da questo punto di vista vi parlo con un'ottima consapevolezza, e come dite noi rappresentiamo le industrie che sporcano, io scherzosamente racconto nelle nostre riunioni, è arrivato Calimero, guardate c'è una subpuntura che ha preso piede, anche nei nostri ambiti per cui il lavoro è sempre visto, come dire, c'è il lavoro pubblico e c'è l'altro lavoro quello che è sport, è quello che non voglia sotto casa, è quello che non ci consente di ragionare diversamente, che non ci fa accogliere delle opportunità. La provincia di Catanzaro, che cos'è la firma della provincia di Catanzaro? Una grande centrale, Edison, che è una centrale che sta lì a produrre energia che non produce più in aperta campagna, dove prima poteva esserci abbiancato anche qualche produzione di qualità, e io mi immagino che se noi la ragioniamo nella sua interezza e questa provincia, insomma, dovremmo vedere che nell'altra valle, che è quella che percorriamo tutti ogni giorno per la Catanzaro della Mesa, ci sono 180 palle eoliche a perdita d'occhio che non producono energia perché non serve. Se vicino non ci mettiamo qualche produzione importante che ci consente di essere energivoli sul territorio e creare lavoro, quindi da questo punto di vista è opportuno, e più la scucia. E io mi rendo conto che c'è un problema, ma se noi non raccontiamo che cos'è il lavoro e che una nuova consapevolezza ci restare dentro la nostra organizzazione, rischiamo di non fare il suo lavoro. Io, per esempio, vado velocemente, ma penso che sulle questioni che riguardano l'energia e, per esempio, il fotovoltaico, e non immaginare che il fotovoltaico è il pieno economico soltanto perché ci mettiamo il pannello sul tetto e non produciamo il pannello a fianco della centrale che ha energia elettrica, penso che è un errore ed è un errore che è costato parecchio in Italia e in questa regione, ha fatto ricchi grandi paesi perché Spagna e Germania hanno comprato sul rinnovabile, sul eovico, sono scelte che non sono state fatte in Italia perché questo paese non ha fatto delle scelte. Penso che delle scelte, anche in ambito del settore delle acque, è una scelta che va fatta perché così come i rifiuti deve essere un elemento, quello dell'acqua, che va considerato finissimo, va considerato nella sua interezza e penso che una modella di justa dell'acqua ci consente di recuperare efficienza e qualità del servizio erogato. Non mi tenuto ancora ma non sono agnostico che il segretario generale uscente ieri ha rimesso il mandato alla platea. Giuseppe Valentino ha investito e il gruppo dirigente Catanzaro ha investito in questi anni. Lo dimostrano in una relazione che non è retorica, lo dimostrano delle parole che non cadono nelle cose già dette, non è un'elencazione delle cose che tutti quanti potrebbero fare, è una nuova idea della nostra azione. Io penso che il segretario Giuseppe Valentino può tranquillamente essere il nostro prossimo segretario generale proteggere per ancora qualche anno. Buona giornata a tutti. Inizio a ringraziare tutti i partecipanti di questo contesto, che siamo al suo gesto, il contesto che determinerà le scelte politiche da attuare nel nostro territorio, che ancora una volta metterà in campo una CTL propositiva ed una CTL vogliosi portare avanti le idee che ha sempre sostenuto. Viviamo questa terra quotidianamente e sappiamo cosa può dare e quali sono i suoi limiti. Ma porteremo ancora una volta, anche se è difficile, l'opera di un sindacato per il più rappresentativo in Europa. Siamo in un territorio che viene marco di alto a tutti e tutti, che vive una quantità di prospettive dove la criminalità è organizzata a Regno Sovrano, mentre i lavoratori e i pensionati devono sempre tirare a campare senza una prospettiva futura e con qualità di vita avvolta al di sotto della media nazionale. Ma noi, rispetto ad altri territori, avremo la possibilità di migliorare tutto ciò che abbiamo in un territorio basso, che potrebbe offrire lavoro certo. Basti pensare che avvolto in alcune zone della Calaccia, le distanze tra marine e montagne di appena 15 km, ed è qui che si potrebbe intervenire migliorando le infrastrutture e i collegamenti statali. In questa legislatura, qui da scopelliti, non si è creato un solo posto di lavoro, anzi assistiamo ad una vera e propria disfaccia. Abbiamo dinanzi un percino giudizio occupante e migliaia di famiglie che vivono senza un reddito cento e con i monumenti pagati al singolo. È necessaria una riforma degli ammortizzatori sociali e la città nazionale proprio nei giorni scorsi ha presentato un'idea di riforma che darebbe respiro quantomeno a chi oggi non può entrare nella tutela dell'ammortizzatore sociale stesso. Non può essere questa la risposta, si deve intervenire sul lavoro, dare risposte a chi ha perso il posto di lavoro, riqualificando i centri per l'impiego e dare formazione protezionale, perché in questa condizione il centro per l'impiego non ha senso di esistere. Infatti i dati sono catastrofici. Basta leggere i dati Istat che vengono pubblicati sul giornale per vedere che c'è una fascia d'età che va dai 15 ai 24 anni dove il tasso di disoccupazione è superiore al 41%. È stata fatta un'ottima scelta da parte della città di Capandaro, cioè incontrare le amministrazioni comunali per discutere dei tributi ed a volte sono stati trovati anche degli accordi a mio avviso buoni. Ma su queste strade si deve continuare a interloquire con i sindici, con gli amministratori, anche su altri argomenti. Vorrei lanciare una provocazione a questo concetto. Potremmo incontrare i sindici anche per discutere dei lavori che vengono affidati alle ditte senza nessuna gara, anche se previsti dalla legge, ma che a volte le ditte stesse tengono i lavoratori in nero. Questi sono soldi pubblici dove le amministrazioni locali devono rendere conto ai cittadini. La più uno, ringraziamo tutti, facendo i miei migliori auguri ai segretari di categoria appena eletti e al nuovo direttivo e al nuovo segretario generale. Grazie. Grazie per la parola che la Presidenza mi ha concesso. È un'occasione propizia a questa con il Congresso per dire alcune cose, secondo di chi parla, importanti o meglio. Prima di ogni cosa, un saluto da parte mia e da parte anche dei compagni di squillaccia iscritti alla CGL. Buon congresso. E prima che io mi dimentichi, o magari preso dal fuoco oppure nello scorre del tempo, voglio fare gli auguri a tutte le compagnie presenti nella sala per domani, festa 8 di lunghi e tanto significativa. Guardate, prima che io dica qualche cosa sul congresso, nel cadenzio e dentro delle evoluzioni, voglio dire una cosa, secondo me, molto importante. Perché io, come il rito alla CGL, non mi sento soddisfatto di come questa grande sciagura, riportata tra tutti i giornali di oggi, è vero, non viene quasi ricordata più tempo. Mi dispiace molto, veramente. È una sciagura. È un incidente gravissimo. E non mi sento soddisfatto di come questo problema viene trattato nella discussione di un congresso generale della CGL. Guardate, io che ho i capelli bianchi e qualche anno di più di alcuni giovani che sono qui dentro, e alcuni di voi si ricorderanno sicuramente, la grande e grandissima sciagura che è successa negli anni sessanta, sessantadue. Io ripentavo allora il quarto magistrale. E quanti compagni, compagni e amici di scuola hanno perso la vita in quella circostanza? E che cosa si è verificato dopo l'allora a oggi? Che cosa? Morte sopra morte, sciagura sopra sciagura. E mi collego al tema di oggi del nostro congresso. Cioè, dove parla mi parla mi parla di territorio, terra mi parla, no? Terra? Eh sì, difendere la terra. Cioè, territorio. E noi assistiamo così a questi eventi che si succedono, morte dopo morte. No, 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 non mi so vista. Dobbiamo fare qualche cosa. Non faccio un specifico, ma sui trasporti nella regione Calabria. E in modo particolare sui trasporti di Galanzaro. Galanzaro è provinto. Quindi io mi rivolgo alla presidenza del nostro congresso. Perché faccia qualche cosa. Richiami l'appello non solo gli iscritti al sindacato, ma la gente che vuole veramente partecipare a questo movimento. Perché è un problema che ci tocca, che ci riguarda, che ci tocca da vicino. Questo è un problema dei trasporti. Perché ognuno di noi prende l'autobus sulla mattina o in trenino per decarsi, è vero, al proprio lavoro. E quindi perciò io dico ci tocca da vicino. Non possiamo stare in ermi, non possiamo stare con le mani sulla pancia di pronti a questi problemi che ci toccano da vicino. Ecco perché faccio appello alla segreteria, ripeto di nuovo, perché ci si vuol dirgli da questo punto di vista. Quindi questo era, chiamavano la proposta, chiamavano suggerimento. È vero, da questo punto di vista. Guardate, compagni e compagni, per un congresso non ci vorrebbero sette minuti. Già è finito e avrei tante cose da dire. Comunque, guardate, non ci vorrebbe un seminario, no, 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 non sette minuti, ho visto sette minuti, ho dieci minuti, un seminario per viscerare tante cose che si accumulano dopo quattro anni di congiuntivo. Comunque, guardate, io vado veloce, però credo che debolire e non debolire. Corri da Irene a portare la vita. Allora, scusatemi, scusatemi, ma io sono fatto così. Allora, mia mamma che fa? Non mi dilungo questo consalto che c'è un congresso, è stato ben detto prima anche dal nostro segretario Valentino ieri sera nell'apertura del congresso, quindi non mi dilungo sicuro. Però, entrando anche se velocemente nello specifico del mio intervento, breve intervento, non voglio ritornare in modo approfondito, ecco tagliato qua, a quanto ho detto durante il congresso provinciale dello SPI, di giorno 4 marzo, in quel di Giurlano, mi pare, no? In quel di Giurlano. Io in quella sede ho chiamato l'attenzione alla riflessione mia e dei compagni e delle compagnie che hanno avuto tanta pazienza ad ascoltarmi. Allora, primo problema, sanità, e dicevo in quella sede perché toccato in prima persona, per mia moglie, rimandata un anno, dopo un anno, per una mammografia, ascoltate, lista sanità, quindi lista d'attesa, governo amico, dicevo in quell'occasione che noi come sindacato non possiamo avere governi amici, guai alla CGL se si mettesse come una cinghia di trasmissione al governo, sia Letta, sia Renzi, ma vediamo che fa sto governo Renzi. Ancora mi parlo, quello che dici mi parlo, le grida di Manzoni, di memoria manzioniana, le grida di Manzoni nei promessi sport. Uniti, partendo. Ringraziamo la vostra ricordata e il suo attorato, come si deve bene, perché voglio ricordare che la CGL è stata sempre iniziata a pensare al problema dei trasporti in Calabria. Abbiamo fatto un altro sforzo, un tuo manifestazione e un sicuro. Abbiamo fatto un altro sforzo, un tuo manifestazione e un sicuro. Siamo in questa nostra città, è avvenuta ieri. Certamente, certamente la CGL è in questa città. Siamo cittacati. Certo, certo, certo. Grazie. Compagni e compagni, perdi il raffoccio, la CGL, spero di continuare il fibro logico di chi mi ha preceduto, rispetto al compagno Monti. Riprendo una, come dire, se ricordo bene, alcune parole della compagna Camusso, è l'ultimo presenza in Calabria e l'autore della compagnia Strava. Cioè, la compagna Camusso invitava la funzione pubblica nazionale e quella regionale a riprendere corposamente la consultazione leggerciata e la sostituzione di secondo numero. Molto probabilmente, come funzione pubblica nazionale e come funzione pubblica regionale, ci siamo un po' distratti, quindi abbiamo perso di vista i punti consattuali in tutte le aziende sanitarie e aziende scolabili. Per quanto mi riguarda il lavoro io, grossomodo non ci sono grosse pendenze, pendenze confattuali grazie all'operato appunto dell'autore della compagnia pubblica nazionale, regionale provinciale, eccetera eccetera. Come tutti sappiamo, in Calabria siamo in pieno piano di rientro. Questo piano di rientro che dovrà portare rigore, economie, riduzione degli sprechi, eccetera eccetera, col passare del tempo ci accorgiamo che praticamente gli sprechi stanno vistosamente aumentando. Questo secondo me prelude a un eventuale allungamento del piano del piano dei piedi. Credo che la prima opzione, la prima inizia della CGL dovrebbe essere quella di sollecitare, sollecitare con un'azione incisiva, il rientro alla normalità. Quando dico rientro alla normalità, per esempio non mi riferisco alla normalità delle presidenti giunte regionali, che diciamo Iero, Chiara Vallotti eccetera eccetera eccetera. E rientro alla normalità dove si possono individuali le responsabilità di ogni parte. Noi, questa dovrebbe essere la prima soluzione. Tenete conto che noi abbiamo nel piano di rientro alcune società, KPI, GM, praticamente il qualsiasi detto Adelaiso, che i calabresi stanno pagando questi fumatamente. Ci siamo accompagnati anche da un istituto, un istituto nazionale che è la Genas, che praticamente alle presenze che si è avuti in Calabria avrebbe già dovuto produrre dei risultati e degli effetti. Non ci sono che si sa ancora la cifra dei debiti accumulati nella Regione di Calabria e praticamente non continuano a pagare queste società. La KPMG praticamente è presente anche quando assessore della Salute, c'è un banco russo che già ha conferito l'incarico all'Atletus per certificare i bilanci, i debiti delle aziende sanitarie e ospedali. Ancora ad oggi non ci siamo e credo che praticamente le moraggi aperte praticamente in tutte queste aziende sanitarie non sono gettificabili e non sono quantizzabili. Il problema che ha posto questo piano di rientro secondo me è che ci sia una sfogazione che ha già portato strutture e strutture locali e sono stati nominati direttori generali, generali praticamente in tutte le aziende sanitarie ospedaliere, che hanno assunto atteggiamenti di scopismo che sono letteralmente fastidiosi, cioè fanno riferimento al presidente scopo e lì, fanno riferimento al decreto Prunetta, praticamente qui dicono io e qui faccio l'inizio. Ed è arredrato praticamente e ci sono ancora di più diritti negati sia per i dipendenzi sia per i comandamenti. E questo voglio dire che in un clima che dovrebbe essere, dico, ricopre, rivoluzione allo spreco, dovrebbe essere diverso e così, così non è. Io porto due problemi. Credo che il lavoro in polso della funzione pubblica CCL in ogni caso sia accettabile, però dovremmo ancora migliorare sugli aspetti organizzativi e di metodo. Mi spiego meglio. Noi per esempio in un'azienda sanitaria provinciale, la vocazione territoriale dove deve offrire i servizi, praticamente è difficile avere la stessa lingua, per esempio per l'ospedale di Chiaravalle, per l'ospedale di Sovrano, per l'ospedale di Sovrano, per l'ospedale di Mannezi, per l'ospedale di Mannezi. La CGE della funzione pubblica, e non solo la funzione pubblica, dovrebbe avere un collante, un collante, una gentiera dove in ogni sede o presidio ospedaliero o distretto sanitario si parlasse tutta lingua. E praticamente in ogni l'ospedale di San Piaggio, si parla di un nuovo, a Soveriglia di un altro, alla Mannezi di un San Corpo. Questo praticamente, organizzativamente, la CGE dovrebbe dare questa risposta. Forse sarà questa tua fortuna magari affrontare questo problema, magari in una conferenza d'organizzazione, ma visto che ora c'è il congresso, sono stati nominati il compagno di fronte alla funzione pubblica, credo che possiamo perdere o investire, secondo il punto di vista, in modo organizzativo per dare risposte più incisive. E dobbiamo avere, non sempre di vista, il fatto che dovremmo avere con il primo sforzo il massimo risultato. Questo rende, voglio dire, più visibile, più visibile, più accettabile la posizione della CGE. Mi auguro che organizzativamente, ripeto, ci sia, finisco subito, questo, ci sia questa, questa volontà della CCL, anche, voglio dire, c'è l'imitativo di ridurre la presenza negli organismi di compagni e di compagni, magari di allargare, sotto altri tipi di organizzazione, la proprima, chiamano seminari, consulti, quello che vogliamo, per affrontare, affrontare queste problematiche. Io più, dott. E' certo che il problema della capacità di madre salute deve essere patrimonio di ogni categoria, per esempio, faccio un esempio brevissimo, se uno dell'ospedale, per esempio come Domenico Mendicino, che passa dopo una volta a camminare in ospedale, passa da qui, perché non vi può aiutare con funzione pubblica portando istanze legittime al direttore generale su un'eventuale, per esempio, assistenza nuvigiliare e quindi praticamente la filea potrebbe al direttore generale richiedere una maggiore sorveglianza di pari, sui posti di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi il problema della sanità non deve essere solo a fannaggio della funzione pubblica, ma deve essere intrecciata praticamente in sinergia con le altre categorie. Chiudo brevemente. Gli impegni della CGL credo che debbano avere a mio volo di servizio tre direttori importanti. La prima direttoria è quella della salute, della salute e della sanità. La seconda direttoria è quella dei trasporti. La terza direttoria è quella dei saperi, della conoscenza e delle tutti i cittadini. Grazie. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sono onorato oggi di presentare a questo stesso congresso provinciale una parte rilevante per la nostra organizzazione. Ci si confronta su quello che in questi anni si è fatto, le battaglie, le iniziative, le tante lotte portate avanti a difettere dei cittadini in genere. Ma soprattutto si propone su quello che si deve fare in futuro. Quali strategie mettere in campo per cercare di ovviare ai tanti problemi sulla salute, sulla sicurezza, sui trasporti, sul lavoro, in diverso del nostro territorio, il nostro paese. Anch'io, come altri che mi hanno preceduta, condivido pienamente e sinceramente la corposta e sentita concreta relazioni del nostro segretario Giuseppe Valentino, a cui vale la mia stima e riconoscimento per la maturità e responsabilità che ha dimostrato nel portare avanti il compito assegnato di Giuseppe. Come bene sottolineava nella sua relazione l'ambiente, la crisi ambientale occupa anche se una priorità del sindacato. Poiché l'uomo, poi politico, per il suo sprenato attaccamento a denaro al motere non ha rispetto per la natura che lo circonda, inquinando mari, monti, aria e quant'altro. Rispettare l'ambiente, questo splendido mondo, è il nostro dovere. A tale proposto vorrei fare qualche considerazione su una questione che ancora oggi ci tiene con il piatto sospeso, la questione della partellina, sul territorio di proprietà dei cittadini borgetti. Stava filenziatamente per sorgere la seconda discarica più grande d'Europa. Grazie alla presa di coscienza e alla battaglia pacifica portata avanti da tutte le generazioni, dai cittadini, dai paesi di nitro, dalla nostra organizzazione e alla nostra regione, possiamo dire senza per questo mai abbassare la guardia che il caricole è scampato. Il problema dello sbalzimento dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente, della salute e dell'incolumità dei cittadini è emesso in maniera ancora più rilevante a seguito di queste vicende a battaglia. Il fatto che la nostra organizzazione ne abbia colto subito l'importanza, attivandosi a vedare una proposta di cui chiaramente emerge un forte senso di responsabilità nella salvaguardia dell'ambiente e nella creazione di posti di lavoro. Denota la serietà e sensibilità che la CGL ha verso i diversi problemi, lottando sezze a schianti della gente per la tutela e la rivendicazione dei diritti in genere. La Galapia, con le sue bellezze naturalistiche e festeggistiche, grazie ad una politica lasciata volovere, incapace, disatterica, ai bisogni della collettività, viene considerata come una patiniera. Mi chiedo come sia possibile nel 2012 parlare ancora di discariche e non cercare rispetto di trovare altre forme di riciclo, a basso in palco ambientale e nel rispetto della natura e della salute pubblica, la quale è sagra, va difesa, tutelata e non venduta. Oggi può chiamare che esiste anche ad un'altra crisi, sempre più crescente, quella politica, di quella politica sempre più clienterale, apparista, con i soconcini scandali, illeciti, sprechi di denaro pubblico e quant'altro. Una politica che non riesce a trasmettere ai nostri giovani i veri valori morali, etici, i principi sani e la vera politica. Trasparemo onestà, rispetto e legalità. Pertanto il nostro sindacato, la nostra città deve continuare a combattere, perché tra la gente è falpabile la voglia di riscatto, il bisogno di legalità, di giustizia e di trasparenza, che vi garantisco, cari compagni e compagni, vi conosce solo nel nostro sindacato, nella nostra grande realizzazione, nella nostra amata città. S. Grazie. S. Grazie. S. Grazie. S. Grazie. S. Grazie. S. Grazie. Cari compagni e cari compagni, voglio iniziare questo discorso scusandomi, scusandomi perché forse come Filcams in questi anni non siamo stati molto più positivi. Il problema è legato alla grande situazione che si è venuta a creare con la crisi che ci accanaglia. Purtroppo, ogni giorno ci siamo trovati a dover combattere con la perdita di posti di lavoro, licenziamenti collettivi, licenziamenti individuali, accassi integrazioni, ricorso a misure straordinarie, immobilizzatori per evitare la perdita del posto di lavoro. quello che sembra ancora più strano è che questa crisi ha colpito proprio un settore come quello del commercio. Eppure è così, è così perché non c'è più il reddito, non c'è più guadagno, non c'è più stipendio. La gente sta rinunciando praticamente anche a mangiare. Vediamo punti vendita chiusi, vediamo la spesa qui a Catanzaro, nel centro storico, diverse attività commerciali. Abbiamo visto qui a Catanzaro, proprio a piazza Matteotti, un piccolo centro commerciale, chiuso dall'oggi al domani. Stiamo vedendo la chiusura di punti vendita anche alla mezzia. Punti vendita che si allontanano sempre di più dal centro storico. Vediamo i centri storici abbandonati a se stessi, dove non c'è più praticamente sicurezza, non c'è più vita. Tutto questo ci fa capire la gravità della situazione. Tra l'altro questa gravità la notiamo anche è nel settore degli appalti, che è il settore più grosso in cui opera la Fincams. Vediamo ogni giorno cambi di appalti che vengono aggiudicati al massimo di basso. Vediamo lavoratori che riempiono i messaggi delegati, la segretaria, col timore di perdere il posto di lavoro, di trovarsi con uno stipendio ridotto, con orario ridotto, non riuscire ad arrivare a fine mese. proprio infatti in questi giorni si sta apportumando la vera drammaticità del settore, che è quello delle pulizie nelle scuole. Abbiamo in tutta Italia 24 mila lavoratori coinvolti, sono incalati a 1300, nella provincia di Catanzaro 150. Cioè lavoratori che rischiano di trovarsi con un reddito al di sotto del mese. Lavoratori che rischiano di rientrare a casa quando anni fa gli era stata garantita la stabilizzazione. Era stato detto, non vi preoccupate, siete stabilizzati, nessuno vi allontano dal posto di lavoro. Invece si trovano a dover combattere giorno per giorno, a dover cercare di attaccare anche con i denti questo benedetto posto di lavoro, allora che per quanto possa essere faticoso mi trova invece scoraggiato. Mi trovo sempre di più scoraggiato, perché si è visto a show, a manifestazioni, non sono serviti a niente. L'assurdo è che mille posti di lavoro, meno di mille posti di lavoro in crisi per quanto riguarda, non lo so, l'Electrolux, 24 mila posti di lavoro non hanno avuto un accenno sulla stampa, se non su quella locale. Quasi fossero lavoratori di serie D. Quando è importante l'igiene delle scuole, è importante che venga garantita l'igiene delle scuole. E questo fa capire come la nostra politica si stia allontanando sempre più dalla tutela anche dell'istruzione, della cultura, colpendo in tutti gli aspetti. Quindi non solo allontanando, non dando più importanza nell'istruzione. Colpendo la quindi anche in questo, anche nelle pulizie. Anche qua nel settore degli appalti è grave la situazione, è grave anche soprattutto per quanto riguarda la legalità. Lo vediamo ogni giorno appalti aggiudicati col minimo ribasto dove ci stringiamo delle spalle, non riusciamo a capire come queste aziende possono continuare a svolgere attività lavorativa. Non rendiamo conto come, non so, presso un ufficio postale una lavoratrice deve svolgere l'attività in meno di venti minuti, neanche il tempo di prendere il secchio, la stopa e infilarsi il cambio. Eppure succede, cioè ad ogni appalto, ad ogni cambio di appalto ci ritroviamo con questa situazione, cioè con una riduzione delle ore. Quindi vediamo ogni giorno il rischio di impresa viene rivoltato sul lavoratore. Quindi le imprese continuano a fare profitto, il lavoratore invece continuano a vedersi ridotto allo stipendio. E tra l'altro volevo anche parlare di altre situazioni come anche della vigilanza, anche qua quello della guerra e giurata sta diventando un'attività che invece di dare sicurezza finisce con l'essere paragonata a quella del portierato. Quindi una figura destinata a scomparire. Si sta cercando in tutti i modi, nella FIPCAM soprattutto, di tutelare questa figura, cercando di costituire un albo dove vengono anche rientrare tutto il personale che ha in questi anni acquisito professionalità. Ma purtroppo c'è un ostacolo da parte delle stesse associazioni datoriali in quanto si va sempre di più a ripasso perché ovviamente costa più una guardia giurata di una portiere. L'idea è quella che soprattutto per quanto riguarda i cambi di appalto ci sia maggiore intervento da parte della politica, maggiore incisività e costituire soprattutto un osservatorio dove ci sia anche l'intervento delle associazioni sindacali perché più di noi, più delle associazioni sindacali, chi è che ha effettivamente la visione di quello che accade nella realtà. Quindi con la costituzione magari di un osservatorio, non solo a livello nazionale assolutamente, ma soprattutto a livello locale, in questo modo si possono superare tutte le strutture legate quindi al cambio di appalto, legate soprattutto alla giudicazione al massimo ribasso. Per cui quello che io mi auguro e mi aspido è che questo nuovo governo, queste nuove idee politiche che si stanno facendo avanti abbiano come scopo quello di ridare dignità al lavoratore. Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, la Calabria purtroppo è l'ultima delle regioni in Europa per qualità della vita. è come dire quando, così diciamo a scuola, ha tutte le capacità però, ha tutte le potenzialità però con tutto e poco. Del resto si pone anche come la regione dei paradossi. Pensate che in Italia abbiamo il più alto numero di telefonini pro capite, quasi due a testa. ritengo paradossale perché abbiamo anche il più alto numero di ragazzi laureati, ma i nostri ragazzi sui quali, purtroppo devo dire purtroppo, pesa il sacrificio delle famiglie che hanno alle spalle, non sono mai, non diventano mai un valore aggiunto sul nostro territorio, non rimangono in Calabria. con una doppia bella per la Calabria e per le famiglie stesse. Inoltre, perché abbiamo il più alto numero di laureati? Per la presenza delle università, per fortuna. Perché tanti, tante famiglie purtroppo non riescono a mantenermi fuori, fuori regione. E allora, a fronte di questo, ripeto, delle nostre competenzialità, delle nostre capacità, abbiamo delle politiche scolastico-educative che sono state penose, penose e danneggianti. Le scuole chiudono, lasciando per esempio posti come naso di pace senza presidi di legalità di Stato, ma anche di giustizia, ma anche di democrazia. Avere la scuola in un comune come naso di pace significa che lo Stato è presente, continua ad esserci. Quindi il diritto all'istruzione, così come tanti altri diritti, è diventato quasi come se avessimo dovuto riscrivere la storia. Diritto al lavoro, all'istruzione, è come se dicessero, ma soprattutto in Calabria, ripeto, perché la nostra è una regione dove tutti i problemi si vivono amplificati anche per il vecchio problema che abbiamo della legalità, dell'andrangheta esistente nei nostri territori. E non ultimo voglio riportare alla vostra attenzione, a proposito di questo, a proposito di scuola, dico che come CGL dobbiamo rivedere nell'immediato la nostra legge regionale sul diritto allo studio, che risale a 1965. Allora, ridentinire determinate situazioni rispetto al diritto allo studio in Calabria significa anche porci noi stessi come protagonisti del nostro percorso, che spero sia di successo. Oltre a questo ritengo che alcune situazioni in Calabria, ma più in generale in Italia, si affrontino come emergenza, per esempio pensiamo agli immigrati, e non come una situazione che ormai è un dato strutturale delle nostre società. Allora, rispetto ai dati ISTAT del 2012, in Calabria abbiamo 74.000 immigrati, con regolare permesso, senza contare l'umanità dolente, che dico io che dispensa per le nostre strade, che incide sulla popolazione calabrese per quasi il 4%, su una popolazione di 2 milioni di abitanti in Calabria. Allora, rispetto al 2001 in Calabria abbiamo avuto un incremento di presenza di immigrati del 10,7%, che è il più alto in Italia. La media nazionale dà un incremento dell'8% nelle altre regioni. in Calabria, rispetto al 2001, l'abbiamo avuto del 10%. Allora, il maggior numero di immigrati risiede in provincia di Cosenza, segue poi Reggio Calabria, Catanzano con 13.000 presenze, in la provincia interno, con il 17,7%. La maggiore incidenza di presenza sono nei piccoli comuni, di quelli con 5.000 abitanti, quindi conosciamo tutti la realtà di Palermo, la chizzeria, fino all'eccezionale esperienza di Rian. Allora, io la faccio in breve perché insomma ci sono quasi. Allora, intanto a questo proposito, come CGL e anche come FLCI, propongo di leggere, di approfondire e di studiare la carta di Lampinusa, che è stata sottoscritta proprio a Lampinusa il 29, il 30, il 31 e l'1 febbraio 2014, che torna a ribadire dopo i fatti dell'ottobre 2013, le tragedie che abbiamo visto tutti, di riguardare questo documento, ma anche di sottoscriverlo, perché non possiamo più considerare questa situazione come un'emergenza e di questo lo affrontiamo come emergenza, sono i centri di accoglienza. Allora, dopodiché, a proposito della cassa interna, io direi che accanto a situazioni come, non so se del salario minimo, cassa interna, eccetera, eccetera, si deve sempre e comunque accompagnare un'azione di formazione, perché anche come scuola noi sottolineiamo, e diciamo sempre, che niente di ciò che si avvergono può essere dato personalmente. Le persone che lavorano, spesso se perdono un lavoro, devono essere riqualificate e riformate. Questo soprattutto in Calabria, nel quale si evidenzia anche un ritorno piuttosto serio e intratico di analfabetismo di ritorno, cioè di gente che comunque non riesce più a decodificare anche un articolo di giornali a saperlo interpretare. Questo significa che la cittadinanza attiva, nel senso di vivere, di saper rispondere a determinate situazioni, mi sembra un diritto molto minato e anche che va salvaguardato anche in questo senso. Io so che la CGS è molto attenta al mondo della scuola, lo so perché ci sono dentro, ma anche perché seguiamo a livello nazionale temi importanti qual è la valutazione degli alunni. Guardate che questa valutazione in decimi, io qui la dico, dei nostri figli che sono valutati con sei, con sette, guardate che è dannosissima, è una situazione, magari la confundiremo in seguito, o in altre situazioni ne possiamo parlare. È un effetto dannosissimo per il diritto all'istruzione. È affinché sia garantito il successo formativo di tutti e di tutte le bambini, di studenti e delle studentesse che frequentano le nostre scuole, soprattutto per la scuola pubblica. è un eccesso del liberalismo che interversa in Italia, ma anche e soprattutto in Calabria dove agiscono tutti noi anche molti poteri oscuri che conosciamo tutti quanti. Io auguro a me, a noi, alla FLC, alla CGL Scuola Calabrese, ma soprattutto alla CGL Calabrese un buon lavoro e soprattutto di presenza come stiamo facendo ancora. Grazie. Grazie. Rottello, non basta? Beh, io sarò breve come tutti gli altri, anche perché il regime di spending gear review dobbiamo risparmiare anche il tempo nella direzione di spedいて. Chi li ottiene? Si taglia la testa. Non è che abbiamo tanto da dire, come diceva quella canzolente di Claudio Oli, che abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. No, cerchiamo un po' di dire alcune delle cose che più ci teniamo non ci stanno a fuori. Io ritengo che ogni volta che facciamo un congresso stabiliamo delle regole che poi cerchiamo rispettare, dobbiamo rispettare per i 4 anni successivi e ci tracciamo delle linee da seguire e ritengo che in ogni congresso dobbiamo fare anche un po' di consuntivo e preventivo. Cioè consuntivo significa che cosa abbiamo fatto anche in questi 4 anni. Io ritengo che ripercorrere alcuni passanti sapendo pure in quale clima abbiamo operato, cioè noi abbiamo operato in un clima terribile, in un clima di crisi, una crisi non so se è reale, io penso che sia una crisi invertata, poi spiegherò anche perché. E comunque in questo contesto che noi abbiamo lavorato e ognuno di noi nell'ambito delle proprie categorie ha fatto quello che poteva. Io vengo dalla funzione pubblica, nella funzione pubblica noi lavoriamo con le regole di Bruletta, il quale per sintetizzare dice una cosa semplicissima sulla sua legge, dice tutto quello che non è previsto in grande sintesi in questa legge non sarà oggetto di materia di contrattazione di centrata, non ci metti niente, ci metti poco e noi non sappiamo che cosa contrattare per cui andiamo a gestire le emergenze. Però noi siamo la CGL e la CGL sa gestire pure le emergenze, noi non siamo quelli che vanno solo al tavolo della contrattazione di centrata in tutti i amici. Noi sappiamo stare sulle barricate, io ne ho conosciute le barricate, ho conosciuto le barricate dei comuni insestati degli anni 90, non solo nel mio paese perché ne ho pagato anche i prezzi personali, io sono stato tra quelli che sono stati in mobilità e nel pubblico impiego era una condizione nuova quella della mobilità, era difficile capire perché non succedeva, nel pubblico impiego nessuno per dire il posto, io l'ho conosciuto da allora le barricate, ho conosciuto più recentemente le barricate del Tribunale di Lamezia, noi siamo stati, noi anche nell'RSU su 7 noi siamo 4 CGL su 7, siamo stati il motore trainante di quella battaglia del Tribunale di Lamezia, noi abbiamo fatto decine di riunioni e abbiamo fatto una cosa straordinaria che io credo che in tutta Italia pochissimi possano annoverare e possano vantarsi, noi abbiamo fatto uno sciopero in difesa del Tribunale, tutti gli uffici giudiziari, Procura, Tribunale, UNEC, giudici del Pace della Mesa e giudici del Pace del circondario con una riuscita crescita, cento per cento ed eravamo solo noi, vi posso garantire che in quell'assemblea, sotto quell'androne c'era solo la CGL, c'era Bruno Tanarivo che veniva tutti i giorni da Catanzaro, c'era Tommaso Rotella, voglio dire, qua in quanto dipendente del Tribunale componente della LSU, abbiamo fatto una battaglia dura, abbiamo esportato questa preoccupazione al Tribunale di Rossano che non l'ha percepita come l'abbiamo percepita noi a Lamezia, l'ha presa sotto gamba, il Tribunale di Lamezia non si è salvato perché gli avvocati difendevano una posizione, perché c'è stata la CGL e il personale di quegli uffici giudiziari che l'hanno presa sul serio quella cosa e l'abbiamo portata più in fondo con l'epilogo che sappiamo, abbiamo sensibilizzato forze politiche, abbiamo sensibilizzato organizzazioni sindacali che erano presenti quando c'erano le riunioni, la CGL era presente sempre con i rappresentanti territoriali, con i rappresentanti provinciali, fino a Michele Cavani, segretario regionale, abbiamo fatto sentire la presenza di noi. Tra le motivazioni per le quali si è salvato il Tribunale ce n'era una che poi a noi ci ha lasciato la mano in bocca, dice essendo un territorio ad alta densità mafiosa, noi non volevamo questa motivazione tra il salvataggio del Tribunale di La Menzia, noi la volevamo, per un motivo semplice, soprattutto che La Menzia non fa processi per marchi, era come per dire ve lo facciamo il pagone, lo salviamo il Tribunale però con una motivazione infamante, noi non facciamo la procura di La La Menzia non fa inchieste sulla marchia, la procura generale di Catanzaro, il Tribunale di La Menzia non cerca processi per marchi, a che c'entra questa motivazione? E mi dispiace che io debba parlare solo di una cosa perché sennò interviene voglio dire la migliottina, ma anche alla crisi, questa crisi che è totalmente inventata, non esiste e dato che non ci credevamo, perché parte dal 2008, non ci credevamo noi a questa crisi, mentre i politicanti, so che uso il termine politicante nel senso discreggiativo, erano laboriosi, studiavano come operare per farla diventare reale, una crisi che non c'è, volevano farla diventare reale e coniavano neologismi, lo sprette, lo sprette è una stessa cosa, c'è un massimo, lo sprette, non esisteva prima lo sprette, dice il differenziale tra l'Italia e i tedeschi, tra i roboti tedeschi, cioè erano sempre in timoria, cioè a creare condizioni voglio dire, però loro operavano e la crisi la facevano diventare reale, una crisi che non esisteva man mano diventava una crisi ideale, e colpiva il pubblico impiego, colpiva le categorie, le categorie diciamo più sfortunati, la piccola e media imprezza, prima di arrivare alla questione dei sogni, e non c'era battaglia sociale, voglio dire, che si potesse far senza pagare dei prezzi, io devo accelerare, la questione della terra dei pochi, abbiamo scoperto tutto su quelle cose, anche in Calabria, voglio dire, questa questione, questa battaglia che abbiamo fatto lì, per la battaglia abbiamo fatto bene, il nome del lavoro, il nome del lavoro non si possono consumare gli spazi, è vero che ci sono 40 lavori, riconvertiamo quel tipo di impianti, noi abbiamo fatto una caverna di 40 entri, tipo quella di Roma, ma in Calabria, non ci sono gli abitanti che ci stanno a Roma o nel Lazio, 2 milioni di abitanti in Calabria, si equivalgono al centro storico di Roma o una parte della periferia, perché facciamo le stesse bughe? 40 entri li fanno con la Roma, di buca, diciamo, per i ricrui, e la discarica di Pianopoli si riempia, quella della Mezzia, che cosa ci mettiamo in queste discariche? Noi siamo poveri, non abbiamo nemmeno le risorse e le manganellate nelle terre dei fuochi, sapete chi le prende? I cittadini che si organizzano, quelli che si pagano i prezzi, chiudo con una metà, c'era una cosa che mi piace, l'ho letta sul libro che è scritto l'ultimo fino a aprile, sempre sul Dupuzio, finito, veramente verocissimo, c'era un uomo che vedeva un giorno, andava da mangiare ogni giorno un povero, era lì, gli dava tutti i giorni da mangiare, e il commento nel paese era, è un santo, dice un santo, perché ogni giorno, un giorno si dice, ma perché questo uomo è povero? Perché non ha lavoro? E perché non ha lavoro? La gente, il commento cambia, non era più un santo, ma poi era un comunista, dice, io spero che siamo tutti comunisti, noi il problema del lavoro, non voglio intendere nel senso ideologico della cosa, io voglio sapere perché non ci lavoro, ce la devono spiegare, mi dispiace che non ho più tempo, io ce l'ho una mia idea, ce la diremo in un'altra occasione. Bene. Grazie. 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 Spero che riesco a esprimere in questi settimuni a esprimere quello che ho bisogno di un'altra legge segnale. Prima di tutto voglio dire che condivido la relazione di Giuseppe, anche nella sua brevità, e nelle cose che dirò vi accorgerete di questa condivisione, delle parole che dirò vi accorgerete della condivisione della relazione. Un'altra cosa, in breve, io voglio esprimere la mia solidarietà, tutta la mia solidarietà al compagno Tremaschi, per quello che è successo, naturalmente poteva essere un altro compagno della Gigene. Se succedeva qua, per esempio, a Bruno Talarico, io ero là e non ero dietro a dire sta giù con le mani, sta giù con le mani, che hanno divulgado. La violenza, questa forma, verso i compagni, i compagni storici, indipendentemente dalle posizioni che hanno, insomma, si devono rispettare che chi tiene un contenitore che rispetta i compagni, che rispetta le differenze, deve essere così. Poi un'altra cosa, poi ieri ho sentito che ci sono un sacco di europei qua in questa sala. Io sono, diciamo così, io sono un calabrese europeo cittadino del mondo. Non sono solo europeo, sono un calabrese, diciamo più sinteticamente suddogenato. Queste cose dell'Europa un po' mi fa discutere dell'Europa adesso, questo europeismo che non mi piace tanto, non è che sono contro l'Europa, però non mi piace discutere di questa cosa così, perché le cose che stanno facendo in Europa sono gravi e il paese, l'Italia, la calabria, gli Stati, che sta facendo le conseguenze. Un'altra cosa, io a differenza degli altri non parlerò del testo unico della rappresentanza. Non parlerò perché credo che questo documento, questo modo di gestire questo documento, secondo me, è assolutamente sbagliato, è errato. Non doveva in nessun modo essere inserito nel percorso congressuale. È stato voluto dalla segretaria, è stato voluto dare il direttivo, però io credo che questa discussione doveva essere fatta dopo il congresso o quantomeno si dovrebbe dare la possibilità ai lavoratori di decidere sulle loro sordi. Invece i lavoratori non decidono, decideranno dopo, con metodi che secondo me non sono democratici. Io capisco che questo documento viene in direttivo, in qualche modo, ha votato un ordine del giorno per far sì che questo documento viene votato dai lavoratori. Per come è stato fatto, secondo me, non sono marchiamelli, ma secondo me non è democratico. Io penso che i lavoratori devono essere messi nelle condizioni prima di conoscere quel testo. Quel testo i lavoratori non lo conoscono e quindi la discussione su quel testo bisogna in qualche modo farlo. non voglio parlare nello specifico di quel testo unico, o meglio del regolamento del testo unico, non si sa cos'è, nel senso che nella prima fase si discuteva di regolamento, successivamente è un testo unico. Poi adesso io, la mia esperienza amministrativa, quando ero consigliere comunale, ma anche sindacato, ha a che fare con i testi unici. No? Quindi noi sappiamo tutti cos'è un testo unico. E cos'è un testo unico? Un testo unico è un insieme di leggi. Se però con la dichiarata testo unico vengono inserite delle cose che prima non c'erano nei documenti, ad esempio le sanzioni, ad esempio gli arbitrati, io credo che non può essere considerato il testo unico. E se è così, se deve essere così, allora quel testo unico, per come è stato modificato, deve essere fatto votare dai lavoratori, ma con un voto certificato. E naturalmente è fatto votare dai lavoratori interessati a quel testo unico. Perché questo? Perché in questa situazione, voi dovete sapere che c'è un periodo di transito di questo testo pubblico. Cioè, non è che applicabile domani. Prima di tutto perché la certificazione degli iscritti deve essere in qualche modo ancora, come posso dire, elaborata dalle piattaforme, perché i dati che, per esempio, dal Cinella all'Inps per la concentrazione delle deleghe, deve essere ancora elaborato, non esiste, non c'è. Quindi tutta questa roba deve essere discussa e deve essere in qualche modo presa in considerazione con il rinnovo dei contatti. E noi dobbiamo tentare di riportare il valore del contratto, del contratto nazionale, visto che c'è una regola, un articolo ondo, che in qualche modo deriva i contratti nazionali, deriva i contratti nazionali. Per assumere. Se mettiamo il caso, oggi, in una fabbrica in Calabria, non c'è, l'hai inventato, lo facciamo oggi, adesso. Ed viene affittato quell'articolo, quel testo unico, per esempio, e la Cisdra e la Willi dice che per risolvere il problema di quell'azienda bisogna diminuire i salari, abbassare i salari, zerare i salari, come per esempio è successo, come si sta succedendo per l'Electrolux, la CCL cosa fa? Se la Cisdra e la Willi sono d'accordo, la CCL cosa fa? Quindi io penso che la discussione del testo unico bisogna farla, ma bisogna farla più del lungo, praticamente. Poi vengo con la visite a me, vengo alla lavorazione del congresso. Io penso che anche questo congresso è stato fatto in maniera del tutto strano. Alla fine che il congresso, il documento non è stato un documento, uno strumento per il sindacato. Io pensavo che quel documento dovrebbe essere uno strumento dei sindacalisti per portare i diritti e ogni lavoro. Non è stato così. Non è stato così perché il congresso è un correttore di bozze. Noi abbiamo corretto le bozze di quel documento, tra vendamenti, azioni, eccetera, eccetera. Quindi non esprimo una positività generale di questo congresso. L'unica cosa che esprimo di positivo è che sono andato a parlare con i lavoratori. Noi abbiamo fatto un'assemblea ai territori e abbiamo parlato con i lavoratori. Dobbiamo riprendere di nuovo questa voglia, parlare con i lavoratori. Per quanto riguarda la CCL, in maniera di una volta, due mari, io penso che dovremmo partire da un assunto. Noi dovremmo portare in ogni comune della Calabria una camera del lavoro. Come può succedere? È semplice. Come è successo per esempio a Gagliarco. A Gagliarco non abbiamo fisicamente una camera del lavoro, ma abbiamo un corpo di una compagna che fa il ruolo della camera del lavoro. tutti i sitatalisti. Tutti i sitatalisti devono essere il corpo delle camera del lavoro. Scusate, come le religioni, come tutte le religioni. Le religioni hanno le indiense, no? La religione cattolica, il Tempio per la religione cattolica e il corpo delle persone. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. I nostri corpi, i corpi dei lavoratori devono essere le camere del lavoro in tutti i territori, in tutto il territorio Calabria. Ma questo non è la mia intenzione. La prima volta che mi sono avvicinato è finissimo, questo è subito, però scusate. Sono l'ultimo, sono l'ultimo. Finisco. Perché questa storia di portare le camere del lavoro nei territori non è tantomeno idea mia. Io quando mi sono avvicinato alla CGL con Enzo Scalesi, è la prima volta che abbiamo mandato insieme, mi ha detto che c'era un progetto della CGL per portare in ogni comune una camera del lavoro. Un'altra cosa ancora con il direttore dei servizi. Luigi Cimino, per esempio, avevamo parlato in questi quattro anni di una camera del lavoro imminerante, di portare la camera del lavoro dove è necessario, magari davanti alle fabbiche, quelle che ci sono, davanti alle cose di lavoro. Finisco con la questione dell'omosessualità. Ieri hanno discusso anche di questo, c'è stato un compagno che ha parlato di questo. Io vi dico la verità, io non so di che sesso sono. Non so di che sesso sono, ma sono soltanto con il tanto mi innamoro, soltanto questo. Io penso che gli omosessuali, questi termini che in qualche modo si utilizzano, sono per rari. Le persone vangono per quello che sono. Le persone vangono. Ok? Non ci sono modi di... lesbiche, omosessuali, trans, 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 geni, tutta una battaglia. E non esistono queste cose qua. Esistono le persone. E le persone devono essere tutelate per quello che di queste cose. E finisco, 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 finisco. le persone. Scusate, 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 una battuta, una battuta e finisco. io penso un'altra cosa in relazione al governo Renzi. Io penso che Renzi è padre Dio. quello che riesce a farlo in un mese, padre Dio non riesce a farlo in un anno. aktuali. Le persone devono essere sforzate che binnen un mese che spendono un'attività. Beh, chi diceva geoletere. lurta, kurta la città è una battuta, perché la ricezione l'amore attenzione. Il mio intervento è sicuramente un intervento di taglio diverso, intanto ringrazio tutti voi e vi saluto e parto dalla relazione di G7, col quale mi complimento anche se adesso è ancora impegnato in commissione elettorale, perché è stata una relazione bella e intensa che ha sviscerato tutte quelle che sono le problematiche e le tipicità che insistono nel nostro territorio, specialmente quella che è la situazione del mercato del lavoro in Italia, in Calabria e nel nostro territorio. I drammatici dati della disoccupazione, specialmente quella giovanile e quella dei lavoratori ultracimpantelli, che toccano percentuali ormai insostenibili, ci mettono quotidianamente a confronto con lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro in molti casi da più di due anni. In un contesto come quello della nostra provincia, dove le aziende quotidianamente, se non avviano procedure di cassa integrazione o sottoscrivono contratti di solidarietà con riduzione oraria, si trovano a chiudere e licenziare i lavoratori a benipendenti. Pensare che il percorso degli ammortizzatori sociali ordinali e in deroga possa essere considerato un saracadute in attesa di rientrare nel circuito lavorativo e produttivo è un'aspettativa sempre più spesso disattesa. Nonostante gli ingrami contributivi e fiscali che sono già a disposizione dell'azienda che volesse assumere lavoratori nel vaccino dei percentori degli ammortizzatori in deroga, e gli accordi sottoscritti con la regione Calabria che aggiungono altre rivoluzioni, poche o quasi nessuna azienda ne sottuisce. In questo momento di forte crisi sono pochi gli imprenditori e le aziende che possono permettersi di assumere nuovo personale, nonostante il costo del lavoro ridotto in virtù di queste rivoluzioni. In Calabria, a differenza delle altre regioni d'Italia, i lavoratori in mobilità, quindi fuoriusciti definitivamente dall'azienda e dal mercato del lavoro, superano di gran lunga i lavoratori in cassa integrazione, che quanto meno continuano a mantenere un legame con l'azienda e permangono nel ciclo produttivo. Si pensi che in tutta la regione Calabria, su 24 mila lavoratori per settori di ammortizzatori sociali in deroga, solo 6 mila provengono dalla cassa integrazione. Se a tutto questo si aggiungono le problematiche inerenti ai tanti nei pagamenti dei sussidi e degli ammortizzatori, che ad oggi in Calabria sono ferme alle mobilità di aprile o luglio 2013 per i lavoratori in mobilità e a marzo per quelli in cassa integrazione, è facile comprendere come la condizione economica e sociale di questi lavoratori e delle proprie famiglie sia drammatica. Quotidianamente il crociame il disagio che investe le famiglie di questi lavoratori, che abituati a vivere dignitosamente con i provenzi del proprio lavoro, del proprio salario, si trovano una volta terminati gli ammortizzatori ordinari ad attendere molti mesi prima lo svolgimento dell'idea burocratico della propria stanza e poi ad agognare qualche mensilità di suicidio. E nel frattempo? Nel frattempo non riesco ad affondire bisogni primari, come pagare l'affitto, provvedere alla spesa alimentare, per non parlare delle spese mediche e di quelle scolastiche. Infatti un dato che mi preoccupa particolarmente è quello di tanti lavoratori che non riescono più a far studiare i propri figli. Dato che dovrebbe allarmarci tutti perché il primo passo per 7 kg di un paese si compie proprio precutendo ai nostri giovani l'accesso all'istruzione. Dobbiamo continuare a lavorare con impegno per dare risposte certe a questi lavoratori, insistere con le politiche attive, con percorsi di riqualificazione, con tirocini formativi e seggi mirati affinché, una volta terminati questi percorsi, i lavoratori possano rientrare nel mercato di lavoro. Bisogna rimettere al centro il lavoro, è da qui che dobbiamo e possiamo ripartire rimettere in primo piano e rilanciare l'attività dei centri per l'impiego che riformati finalmente potrebbero provvedere ad incrociare domande e offerte lavorativa, monitorare meglio gli avviamenti effettuati con chiamata diretta e fornire validi supporti ai giovani che una volta terminati gli studi si affacciano al mondo del lavoro. Per ben orientarli e assisterli nella ricerca di un impiego, istruendomi sulla mobilizzazione del curriculum vitae e sul diranno delle competenze. Non è infatti più possibile limitarsi a brevi e sporadici colloqui di orientamento che lasciano i giovani più disorientati di quando non lo fossero in precedenza. In questi anni le numerose iniziative politiche, culturali e di mobilizzazione che ci hanno viste impegnati come Camera del Lavoro hanno fatto sì che fossimo sempre vicini alle istanze dei lavoratori sul nostro territorio. Ne cito una per tutte, la festa del lavoro il vostro scorso giugno che ha visto un grande impegno di tutti i compagni della Camera del Lavoro e che ha, con le tematiche discusse nei vari dibattiti, posto al centro dell'attenzione e le azioni messe in campo in questi anni dalla città, per uscire dalla crisi e rilanciare l'economia del nostro territorio. Infine, fatemi ringraziare Giuseppe, che mi ha voluto nella segreteria, per l'esperienza che ne ho tratti e per l'opportunità di maturare in questi anni. Grazie al confronto e al supporto di talche compagni e compagni, delle categorie dei servizi, che ognuno con la propria esperienza ha infatti arricchito le mie conoscenze sindacali e ha contribuito a migliorare e a rafforzare i rapporti umani. Grazie. 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 Buongiorno a tutti. Io, venendo qua stamattina al congresso, stavo pensando a come strutturare il mio intervento. la canzone della radio della macchina mi ha praticamente molto ispirato, perché in quel momento la mia radio mandava la canzone di Lucio Nongabuono, al di là delle tendenze politiche, rompere e pregadiente, il stare sulla terra. E la relazione di Giuseppe ieri è stata il stare sulla terra. Nel senso che Giuseppe ha messo in evidenza l'azione e l'operato della nostra della nostra frittà, Lucio Nongabuono, rispetto a tutte le iniziative che abbiamo messo, perché il sale è quella cosa che dà sapore alle cose. Quindi noi siamo stati il sale di questo territorio. Io penso ed è vero che... E poi la cosa che molto mi ha colpito, essendo io la segretaria della Fai, il titolo di questa giornata, dicendo di difendere la terra, perché è da lì che dobbiamo partire. Noi non abbiamo i grandi insediamenti produttivi, abbiamo la nostra terra e la dobbiamo difendere. È il rispetto ai rifiuti, perché della terra, rispetto all'acqua, al suono, cioè quello che effettivamente sono le cose naturali della terra, nel senso semplice della cosa, è conservato lo sviluppo di questa regione. Noi, e l'ho messo in evidenza anche nella relazione che ho fatto, mi sono sparato e non ve li faccio in altri venti minuti già al mio congresso, quindi nella mia relazione ho messo in evidenza come l'agricoltura, quindi la terra in senso proprio, può portare lo sviluppo della nostra regione. Noi dovremmo cercare di tutelare, quindi mettere in campo un'agricoltura di qualità per valorizzare l'ambiente. Noi, ripeto, abbiamo i grandi insediamenti produttivi, abbiamo questo e quindi questo ci può portare quello che è il turismo, questo è quello che ci può portare il lavoro e questo è quello che può far risollevare le sorti dei nostri giovani che in questo momento stanno ritornando però, molto brevemente, stanno ritornando proprio a capire questo e quindi in questo momento la struttura proprio dei fondi europei, la struttura delle leggi che ci sono in campo non aiutano questo processo. Noi dovremmo essere capaci, perché ieri abbiamo fatto un'eva curva rispetto ai fondi strutturali, a dire il vero, noi come si diceva in quest'ultimo periodo stiamo facendo un cambio di tendenza, un'inversione di volo, perché è questo che ci chiede l'Europa, un'inversione di volo. Noi abbiamo la necessità di essere protagonisti, cosa che non siamo stati nel passato, quindi da noi deve partire l'input rispetto a quello e quindi a non piangerci più rispetto ai fondi strutturali, perché una volta il bilancio era caricato con quello che veniva accascato dallo Stato e non c'erano queste fantomatiche quote europee, dicendo che noi dovremmo avere la possibilità di intervenire in questo senso e quindi far partire dal basso, è un po' quello che noi ci siamo riproposti col pieno della volta, una funzione d'ascensore, noi dal basso dovrebbero venire i bisogni della nostra struttura nazionale recepirle e poi tornare con una risposta adeguata rispetto al territorio. Noi dovremmo essere quella spinta che viene dal basso verso l'Europa, perché solo in questo modo noi difendiamo la terra, costruiamo l'Europa e mettiamo il sale nel nostro territorio, quindi siamo il sale della festa. Io non la faccio lunga, ho recuperato tutto quello che ha preso Giovanni, quello che non ha preso a me. Giovanni, questo è un saluto anche con il Pagliore e il Saluto, oltre a cantarlo nel Sparco, il Pagliore? Si, con un saluto a tutto il proprio la mia presidenza e a tutti gli intervoluti a questo nostro congresso, a un saluto particolare al compagno di 4.000 della città nazionale. Io faccio mia e condivido in pieno la relazione che ha tenuto ieri Giuseppe, una relazione che ha tracciato i punti e ha sottolineato ed evidenziato le battaglie che abbiamo intrapreso ed ha segnato la linea politica che abbiamo seguito e che dobbiamo seguire, linea che ci ha portato ad essere un punto di riferimento per la popolazione di tutta la provincia catalanese. Penso alle battaglie tenute per la legalità, agli ottimi risultati ottenuti dal sindacato dei pensionati per l'ottenimento di tariffe agevolate che sono state ottenute in quasi tutti i comuni, alla festa provinciale del lavoro che ha fatto sì che la CGL fosse promotrice di un laboratorio politico, culturale e di proposta economica che è stata una vetrina in tutta la regione Calabria. E inoltre pensa alle vertenze. Per ultima l'avvertenza tenuta all'improcontice di La Mesoderme che ha permesso di saldoguardare oltre 272 posti di lavoro e che ha fatto della CGL un punto di riferimento autorevole per tutti i lavoratori. Autorevolezza che abbiamo ottenuto per un ottimo rapporto di lavoro tenuto in sinergia tra categorie e servizi, intrecciando concretamente tutta la collettiva e tutta l'individuale. Questa autorevolezza è, parliamoci chiaro insomma, anche una forza attuattiva che abbiamo ottenuto con una forte sinergia che ha un patronato ottenuto dal sindacato dei pensionati. Cioè abbiamo fatto un progetto con cui siamo andati a rivedere le pensioni di centinaia, circa 720, negli ultimi quattro anni le pensioni di 720 nostri iscritti e non anche iscritti che si sono iscritti successivamente. Ebbene, negli ultimi quattro anni abbiamo fatto recuperare per i pensionati che si rivolgevano ai nostri uffici ben 811.000 euro. 811.000 euro sappiamo che cosa vuol dire in questa nostra regione disastrata dove i nonni, tra virgolette, impiama una pensione e punto di riferimento per tutta la famiglia. Questa forza ci è stata data grazie a una forte azione confederale che con una nuova organizzazione nel sistema dei servizi e soprattutto nel patronato ha fatto sì che l'Inca della provincia di Catanzaro sia l'unico patronato in tutta la regione Calabria che oggi abbia un trend positivo rispetto agli anni passati. Su questa linea che abbiamo tracciato e su questa linea che, per il futuro, dobbiamo continuare il nostro lavoro. Grazie, fino a la città. L'ultimo intervento è il Toscadense. Dopodiché ci stanno in conclusione le compagnie giornate. Grazie a tutti. No, io semplicemente, ho fatto in considerazione anche perché voglio dire, la relazione di Giuseppe questa presa ostiva, con tutti i punti dell'attività che la CGL in questi ultimi 4 anni si è data, ma soprattutto quella che deve essere poi l'azione del nostro gruppo dirigente per i prossimi 4 anni. Io voglio portare a questo congresso la voce della categoria che rappresento, che è la categoria degli edili, che stanno vivendo in questi giorni, soprattutto nella provincia di Casanzaro, noi l'antieri sera siamo arrivati pure a fare la cassa integrazione per i dipendenti della cassa edili, quindi c'è una situazione drammatica. Vi do un dato giusto per ragionare, perché poi io questa volta ho provato difficoltà a fare le assemblee base e il congresso, perché mi sono provato in una platea di lavoratori che il 98% erano tutti sotto ammortizzatori sociali, cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, articolo 11. E la mia preoccupazione, questa è nata pure, e i colleghi, io io inserisco la considerazione di CISF tranquilli, perché anche qua voglio stare al punto che toccherò successivamente. Come interveniamo un attimino su situazione d'emergenza? Perché io sono preoccupato che alla scadenza degli ammortizzatori, no, prospettive, non ce ne sono. Da 2,8 ad oggi, in cassa edili, che è lo strumento di lente più laterale, quindi che è misura proprio l'escrizione, quindi è stato di rappresentanza vera di queste categorie. Abbiamo un calo del 50% dei lavoratori iscritti nelle casse edili. Questo è un dato che ormai è generalizzato in tutta la provincia, ma su questa provincia, in modo particolare, a differenza di altre province, oppure le nostre, dove si stanno piantando i cantieri, quindi per l'altro di grandi opere, non vede alla luce nessun'opera. Noi abbiamo fatto l'altro giorno una riunione con la segretaria unitaria delle rispettive categorie, e quindi vorremmo mettere in campo dell'azione verso proprio la politica, perché poi anche qua il settore, voglio dire, è l'impresso di quella situazione che c'è, quindi se non c'è un pagamento dell'amministrazione pubblica, dell'azienda, dell'impresa che ha realizzato quell'opera, è ovvio che poi è ricaduta, la fanno cadere sempre e comunque sopra i lavoratori. No, quindi è una cosa più semplice. Però io credo che è cambiato, dobbiamo cambiare la mentalità su questo settore, perché io dobbiamo essere qui i prospettivi, ma nella relazione che ho fatto nel congresso di categoria, ho posto proprio l'attenzione su questo. Se pensiamo di fare cementificazione a prescindere, non si va più a nessuna parte. In Calabria ci sono più case che abitanti. Abbiamo una grande risorsa, che è il nostro patrimonio elettorico, naturale, le aree interne, le altre strutture, anche su questo poi, con l'avviso tra l'altro giorno, abbiamo consultato di fare prima di conoscere un'iniziativa, perché poi, certo, ci sono i rambi, non le tragedie, che sono, però, voglio dire, andrebbe rivista pure a nanzi nero come sono state fatte queste opere, tutte le situazioni che ci sono. Quindi su questo, credo che poi, dobbiamo dare più l'attenzione, come il CGL e come il Lengro in particolare, che stiamo facendo, perché poi si tratta di salvaguardare il lavoro. Noi, in questo congresso, io l'assemblea ho fatto tutto questo, dato che abbiamo presentato un piano per il lavoro. Ed è una cosa storica, che ci dovrebbe accompagnare il nostro percorso futuro, perché di questo dobbiamo parlare in calabria. Se ci sono tassi di soccopazione giovanile, non mi sopra il 35%, se l'azienda continua a chiudere, io tutti, chiamavano i gusti, ma si tratta di piccoli insediamenti produttivi, in canti, dai 30, 25, 15, sono da dire, io ci ho tutti in mortalità, in fallimento, perché ora la situazione è questa, quindi è drammatica. Però questo serve, e quindi, nella ripresizione che facciamo come organizzazione sindacale, che trovo la parte che Giuseppe, perché è quella che ci deve accogliare, noi dobbiamo fare il punto su queste situazioni di emergenza. Qui nel congresso regionale della Fillea, che ci sarà, l'assessore ai lavori pubblici, abbiamo fatto già un risultato di occupazione del Consiglio regionale, che non viene fatta, però quelle opere che si possono canterizzare, quindi per tale lavoro, ancora ad oggi, sono perte, e penso per esempio, alla cosiddetta metropolitana di Catanzaro, no? Ormai ne stiamo parlando, noi stiamo facendo seminari, anti-olsa, però ancora ad oggi, effettivamente, non è stato canterizzato quel lavoro, di 140 milioni di euro, che consente sia di migliorare la verbiata, ma soprattutto alla costruzione che ci interessa, ma ci interessa solo con questione della gestione, quindi su questo voglio dire, dobbiamo essere chiari, il nostro modo di fare sindacato, noi come gruppo di gente, della categoria, come semente, ma della CINCI, la regione poco fa, Marco, abbiamo un gruppo di gente che ha pensato soprattutto a quello che deve essere poi, è chiuso, lo so, vorrei prendere tanti, però, deve essere chiaro il ruolo del nostro, no, che ci aspetta per i prossimi 4 anni, quindi di dare una svolta di essere più radicali, noi abbiamo fatto questa operazione, essere radicali sul territorio, essere radicali sui posti di lavoro, perché deve essere questo l'obiettivo caldo, perché se vogliamo cambiare un attimino la pagina, e quindi dare alla Calabria, alla vostra caudicia, un'opportunità diversa, ci ritrova un'opportunità diversa, con tutte le cittadine della crisi che ci sono, perché parla di crisi, voglio dire, qualcuno lo diceva prima di me, voglio dire, sì c'è crisi, ma se era crisi, vera e propria, ci dovrebbe essere avuto un'opportunità di una rivoluzione, no, voglio dire, quindi qualcosa che in questo sistema non c'è, poi il settore della reddizia è uno di quei settori che faceva bene, l'invitato che diceva la questione dell'infiltrazione mafiosa, noi abbiamo ogni giorno puntualmente un'indagine della via, della magistratura, dove vengono chiuse aziende edili, che sono quelle aziende prevalentemente dove c'è produzione con la dranga della comunità monica, perché sappiamo benissimo e qua ricolleghiamo poi la vicenda del lavoro nero, vero in basso, perché a me ci pare fortunato di questa categoria non solo di questa categoria ma altri settori, cioè ma in edilizia in modo particolare il superfalto, quindi c'è il giochino che le altre aziende guarda caso le stiamo facendo chiudere perché c'è il giochino delle altre aziende che hanno altre scopi, quindi anche questo deve essere la legalità e il punto su cui dobbiamo intervenire anche per dare, voglio dire, opportunità alla nostra terra nei nostri ma la nostra città che rappresentiamo di avere una prospettiva perché ho da l'assemblea che ho fatto qui soltanto negli occhi dei collaboratori e di soccopare tante tristezze noi dobbiamo essere quello sommetti che siamo fiammettati dove saremo anche in questi momenti di portare quelle voci con le trasferrazioni ad avere una prospettiva migliore e di un futuro diverso per lo che abbiamo. Grazie. Sono finito di interventi e ho ascoltato 26 interventi della mattina e di pomeriggia alcuni simparci alcuni appassionati alcuni ancorati tutti comunque molto diversa e tutto ha contribuito a farci un pochettino crescere e adesso la conclusione con Paglia Battaglia Io voglio provare a ragionare insieme con voi sull'andamento complessivo di questi giorni di questi due giorni questa interessante appassionata discussione che è stata fatta qui a Calanzaro come del resto si sta facendo in tante altre parti del nostro paese in tante altre campi di lavoro in questa prima tornata dal giro di boa delle assemblee congressuali all'avvio dei congressi camerali e successivamente dei congressi regionali per arrivare a Rimini 6, 7, 8 di maggio e nel passaggio poi delle diverse categorie che c'è che ci sarà da qui ai prossimi giorni ho trovato questa discussione molto interessante e devo dire che è un apprezzamento che di solito non lo faccio in termini di circostanza ma lo voglio fare in maniera anche invece sentita perché credo che la camera del lavoro il gruppo dirigente che uscirà da questo congresso sarà arricchito di una discussione che va accompagnata da un'ottima relazione che Valentino ha svolto ma con il sostegno e il contributo di tutti gli interventi anche di chi magari su alcune questioni ha posto sollevato aspetti legati a un funzionamento un meccanismo a volte c'è un rischio anche e i media ci come dire temiano anche rispetto un po' alla realtà la discussione di questi giorni dentro la CGL di queste ultime settimane che non ci danno l'esatta e vera dimensione di quello di quello che è stato e credo che appunto la relazione qualcuno la metteva in evidenza il sale il grano la terra ha dato un elemento come dire di sponda molto interessante che in un tempo contenuto anche qui non è usuale perché dentro di noi sappiamo quanto poi in sindacalese ci mettiamo per raccontare termini e discussioni è riuscito a stare nell'essenza e nel portare a soluzione e a condivisione perché di questo io traccio il bilancio di questo congresso di una gestione di questi quattro anni che è per noi questo sì il cosiddetto bilancio sociale siamo chiamati come dire a fare di questa cosa non quelli che ci certificano voglio dire gli enti o le società esterne per prendere qualche denaro ma questo è il bilancio sociale di questi quattro anni un bilancio sociale ricco qualcuno ha detto frizzante voglio dire interessante con tante idee con tanti spunti con tante proposte con una progettualità con il fatto di avere comunque davanti a noi un quadro ben chiaro che noi qui abbiamo un mandato che ci conferiscono i 29.000 e oltre iscritti che in questo congresso ci hanno conferito voglio dire gli iscritti che hanno partecipato e che credo dobbiamo a loro in primo luogo rispondere in maniera in maniera diretta di quello che sarà per i prossimi quattro anni il nostro il nostro impegno e lo sono stato e lo sono stati gli interventi che ognuno di voi qui ha fatto partendo e portando un proprio contributo le può dire un contributo di merito diversi fra di loro ma anche con esperienze esperienze dirette di un vissuto di ciò che ognuno sente di mettere al centro delle questioni portando l'esperienza del proprio luogo di lavoro portando l'esperienza di quella realtà di lega portando l'esperienza dei servizi portando l'esperienza di quello che è la nostra organizzazione che è una cosa tanta e fatta di tante cose e sul quale credo che giornosamente noi siamo chiamati come dire a difendere giorno dopo giorno dagli attacchi voglio dire violenti non solo di una destra non solo di una destra che in questi anni la tentate di tutte e la parte di tutte perché l'abbiamo vissuto oggi ma anche da una disattenzione delle forze a quale spesso noi ci rivolgiamo per chiedere non tanto un sostegno e una condivisione ma quanto quella interlocuzione necessaria rispetto per esempio anche ad alcune forze della sinistra la dico così non credo che lo dovremmo dire in un altro modo noi non ne siamo felici del fatto che la sinistra o il centro-sinistra in questo paese ha le sue difficoltà perché sappiamo quanto abbiamo bisogno come organizzazioni sindacali di avere interlocutori capaci di poterle incitirare di fare leggi di sostenere proposte di mettere al centro le questioni che qui abbiamo discusso e che tenteremo insomma di riassumere all'interno anche del documento conclusivo di questo congresso così come negli altri appuntamenti e ne siamo gelosi di questa nostra di questa nostra varietà perché noi rappresentiamo tante cose non siamo un pezzo marginale di questa società siamo un'organizzazione di oltre 5 milioni e 700 mila iscritti siamo un'organizzazione che da responsabile di organizzazione posso ormai dirlo al giro di boa ha consultato in questa tornata congressuale quasi un milione e 700 mila iscritti che ha svolto oltre 60 mila assemblee che ha visto una partecipazione straordinaria di compagne e di compagne non a litigare come qualcuno ha tentato di dipingere sui media sullo scontro Camusso-Landini sulla forzatura che dentro questa come dire immagine si è voluta dare per cercare come dire di sottacere a quelle che sono state invece che sono ancora oggi le questioni reali che all'interno dei congressi vengono poste siamo una grande straordinaria forza e lo continuiamo ad esserlo di quella forza a quale avete parlato voi delle tante questioni dal fatto che noi affrontiamo quotidianamente la migrazione dei diritti da quelli dei diversamente abili al fatto di quelli che qui sono stati coniati e ti ringrazio la mano è data dalla questione del diritto alla salute alla sicurezza tutti i giorni ci risoliamo sul tema della sicurezza non solo quando succede l'incidente ci dovremmo interrogare sul fatto e tutti ci dobbiamo interrogare sul fatto che quando c'è una questione che attiene a un incidente sul lavoro lì è lo specchio della crisi economica e sociale di questo paese l'incidente sul lavoro è la scelta della via bassa le questioni dello sviluppo e del lavoro non è la via alta non è l'aspetto della qualità del lavoro è la via bassa è quello che nasconde dietro voglio dire la timbolezza di un sistema economico e di un sistema sociale di questo paese non sono morti bianchi vero sono morti che hanno un nome e cognome perché a partire dalle questioni che anche qui voi avete posto per quello che ci riguarda va continuata e va alimentata la nostra azione a sostegno della battaglia per la sicurezza nei luoghi di lavoro ma fatta con la contrattazione con quello strumento fornitabile al quale non ci dobbiamo mai dimenticare che noi siamo un'organizzazione che deve ritrovare il senso della contrattazione il sindacato non può appassionarsi solo al dibattito e alla disputa di questo quell'aspetto legato ad altro per noi per noi che ci vengono chiamati tutti i giorni a dare risposte è il tema della contrattazione da quella nazionale a quella nel luogo di lavoro a quella del territorio e alla riconoscimento che una grande straordinaria forza come la nostra deve avere e avere la capacità di stare sui tavoli è qui che sbagliano i compagni quando un giudizio sull'aspetto che appiene al testo unico sulla rappresentanza perché lì dà il valore e il senso sul quale questa organizzazione chiude una fase storica del novecento torna ad affrontare un tema nuovo del ruolo e della responsabilità di un'organizzazione dei sindacali dei delegati nei luoghi di lavoro sul senso proprio della contrattazione e delle sue regole non altro non altro non altro non si difendono i lavoratori fuori dai cancelli della fabbrica i lavoratori e le lavoratrici si difendono a partire dal luogo di lavoro questo è quello che ci hanno sempre insegnato e che non possiamo mai dimenticare da questo è quello che noi dobbiamo riconquistare sì a partire anche dai compagni e delle compagnie dell'appiotto sì a partire anche dalla situazione legata al contratto dei metallo poi poi tenterò di dire alcuni aspetti che attengono questo elemento ma questo è uno dei punti di forza e di snodo rispetto al quale voglio dire questa organizzazione sindacale è chiamata oggi a rinnovare la sua la sua sfida avete posto tante altre questioni dal tema del territorio alla questione della sicurezza più generale non solo quella dell'uomo di lavoro alla legalità avete affrontato il tema del femminicidio così come dell'aspetto del valore di gente dal tema dell'istruzione a ciò che significa a che cosa comporta al tema dell'Europa al tema delle pensioni e tante tante altre cose e guardate sono di quelle robe che sicuramente voglio dire e di questo ne sono sicuro sono stati ed erano gli aspetti che sono emersi anche nei luoghi di lavoro e proprio per questo è il fatto di un tentativo di iniziare una discussione così come l'avevamo immaginata e per fortuna in larga parte abbiamo affrontato e cioè quella dell'ascolto di avere scelto un congresso e un tema del congresso per dire è ora che andiamo ad ascoltare i lavoratori e cerchiamo di capire non nessun libro di testo ma su delle cose voglio dire che sono oggi l'essenza e gli aspetti che devono essere affrontati con le nostre molti parti con il governo sulle cose da fare per dare sostanza per vedere qui ora adesso possa fare un esempio rispetto alle questioni del lavoro alle questioni dello Stato sociale al problema dell'influzione sociale al problema delle politiche del lavoro al problema del tema dell'Europa a tutte quelle cose che sono contenute in undici azioni in undici azioni abbiamo ritrovato e avevamo chiesto di fare un congresso voglio dire che non ci portasse a dividere a prescindere una parte minima non ha voluto sentire ragione non ha voluto sentire ragione la stragrande maggioranza ha accolto questa indicazione poi so bene che le diverse particolarità si sono trasformate in diversi emendamenti però anche qui ho un'attenzione che voglio dire deve essere precisa e definita perché siamo appunto al termine di un appuntamento congressuale credo che non è ripredibile e riproponibile il fatto che si faccia un documento vitario e si faccia un documento degli emendamenti non è possibile non è possibile perché fa perdere il senso ritorniamo alla logica dell'appartenenza ritorniamo alla logica stai con me o contro di me non è questo il mandato che anche da questa tornata di confronto congressuale gli iscritti ci hanno preconsegnato ci hanno preconsegnato non era questo che non è questo tant'è che in questi giorni in queste ore come avete visto ci sono discussioni accese discussioni che appunto rischiano di essere riportate in una sintesi sul quale qualche elemento di difficoltà potremmo trovarlo ma che insieme invece se troviamo il senso della regione dovremmo noi superarlo perché davanti a noi abbiamo un tema che è di fondo come e in quale modo si devina per noi le questioni che attengono all'aspetto che è legato non tanto allo slogan ma al titolo di questo congresso il lavoro il lavoro il lavoro il tema del lavoro come noi lo definiamo dentro quale forma e quale azione e quale sintesi riusciamo a fare per dare sostanza e contenuto al merito di questa cosa noi rischiamo di trovarci da qui ai prossimi giorni con una proposta che sarà vuota di contenuto che rischia di farci fare un passo indietro un tema tanto annunciato Giovanni o altre cose privo di contenuti e di sostanza con il rischio che potremmo trovarci di fronte al nuovo effeccio qui anziché semplificare le questioni che attengono alle forme del lavoro noi rischiamo di alimentarle addirittura fino al punto di ritornare a tirare fuori l'aspetto di abolire l'attivo 2018 per i prossimi tre anni per dare stabilità noi dobbiamo dirlo con precisa condizione di causa noi non abbiamo bisogno di più precarietà noi abbiamo bisogno di lavoro vero di lavoro qualificato e di come è possibile creare lavoro in questo paese e quale shock davvero possibile per poter invertire una tendenza al quale non è più sopportabile al quale non solo questo diventa l'elemento di competizione fra noi e gli altri parlo dell'Europa ma rischia di non agganciare nemmeno nel momento di una possibile ripresa il fatto di dare una risposta in positivo alla tanta domanda di lavoro che c'è ed in particolare in alcune realtà dove la situazione è ancora più complessa e allora è opportuno mettere a punto la nostra proposta la nostra strategia e questo congresso voglio dire che coglie una fase particolare da un confronto europeo che ci sarà da qui a qualche settimana al contenuto voglio dire del come noi portiamo le nostre proposte in Europa e come queste vivono all'interno dell'Europa a confronto all'interno del governo in ragione delle risposte che sono necessarie senza trovare nuove le tiglie e senza passatevi in termine il fatto che torniamo alla situazione di dicembre dove allora si dice solo un passaggio di consegne di passaggio di potere non può essere questo il fatto che il governo possa individuare in solo alcune soluzioni dell'acudio fiscale la risposta all'aspetto di fiscali e la ridistribuzione soliti noti così come l'aspetto dell'Irter e non pensare ad esempio che bisogna ridistribuire togliere la sanzione al lavoro di perdente e alle pensioni perché se non diamo i soldi ai lavoratori e ai pensionati e se non facciamo ripartire i consumi in questo paese non ce la facciamo non riprende non ci riprendiamo non ci riprendiamo questo è l'elemento di fondo al quale questo governo deve rispondere così come deve rispondere anche sulle quattro cinque questioni di fondo che sono legate al tema dello sviluppo non basta dire all'Europa che non c'è bisogno di un'Europa dell'autorità bisogna che in questo paese si rivelano le condizioni per riparlare di una politica industriale per parlare di una politica ambientale per parlare di una politica delle risorse per parlare di una politica fiscale e sia voglio dire tema e questione sul quale comincio ad ascoltare anche le forze sociali perché anche qui noi rischiamo di ritrovarci di nuovo ad un governo che fa senza prendere ascolto di chi rappresenta milioni e milioni di lavoratori di cittadini e di pensionati qui non si tratta di ritornare al tema della concertazione ma almeno di un riconoscimento del confronto di forze che hanno proposte indicazioni di idee e su questo credo che noi abbiamo tutto il diritto non solo di essere come dire compartemente ascoltati in qualche voglio dire convegno magari in quell'occasione ma di aprire dei veri e propri tavoli di confronto e di trattativa questo è quello sul quale noi abbiamo la necessità di poter riconquistare temi ed aspetti che devono parlare alla situazione economica e sociale pesante in cui attraversa questo paese perché si moltiplicano le disuguaglianze perché gli attacchi ai diritti del lavoro e delle persone come dire sono il rischio e l'elemento sul quale noi dobbiamo essere non solo vigili ma attenti ad un crescendo consapevoli di questa complessità e consapevoli anche che a sei anni dalla crisi siamo quasi al sesto anno della crisi noi abbiamo la necessità quindi qui di riprovare a costruire un'idea di paese un'idea di sistema sapendo di stare all'interno di una comunità e di un'Europa al quale non essere voglio dire inascoltati o al solo ed esclusivamente essere quelli che si presentano con i conti in mano e magari senza voglio dire soluzioni e proposte abbiamo bisogno di tutto questo abbiamo bisogno quindi di essere da una parte voglio dire attenti sull'aspetto delle politiche fiscali sull'equità dello sviluppo sulle politiche dell'istituzione sulle politiche industriali sugli assetti istituzionali sugli aspetti che riguardano la pubblica amministrazione cioè su quello che è il contenuto al quale noi abbiamo dato indicazione nelle azioni che abbiamo sottoposto al centro di questo congresso ripartire dal lavoro ripartire dal piano del lavoro dare contenuto e ripartire da un piano del lavoro sul quale il protagonismo lo riescono a determinare anche i territori e a partire dai territori che la questione che avviene agli aspetti che prima poc'anzi si dicevano la crisi dell'edilizia gli aspetti ambientali la questione dell'edilizia non significa ravinare di nuovo poste e territori significa fare dei piani di sanamento dei comuni dei centri storici delle opere infrastrutturali significa avere un'idea sulle opere infrastrutturali che collegano e che non come dire creano barriere e divisioni all'interno di questo di questo paese abbiamo cioè la necessità di una politica alta ma una politica anche di effetti come dire immediati e concreti e per questa ragione che noi porteremo da qui alla prossima settimana lo diceva Michele nel suo intervento domenica perché è l'unico giorno tra l'altro in questa fase di conoscenza in cui il direttivo nazionale sarà impegnato a definire un piano di proposte sul quale chiederà insieme con Cisro Will un confronto del governo rispetto alle proposte sia sul lavoro ma sia anche sull'aspetto che riguardano l'equità fiscale su quello chiedere l'apertura di un confronto necessario per arrivare a portare queste nostre proposte quanto meno ad incassare alcuni risultati perché diversamente ci troveremo di fronte ad una ripresa di iniziative di mobilizzazione necessaria perché non possiamo più aspettare non possiamo aspettare la gente non è più in grado non solo la nostra gente ma la gente complessivamente giovane chi non ha lavoro non è più in grado di poter aspettare ancora un tempo indefendito e solo ed esclusivamente slogan intorno alla stella politica fiscale politica del lavoro creare occupazione senza avere nessuna delle risposte e delle proposte ecco queste sono le questioni che riguardano il tema di questo congresso e l'abbiamo incrociato nelle tante assemblee che abbiamo fatto ma questo è un congresso che dicevo che parla anche di noi del nostro essere della nostra organizzazione parla delle nostre scelte al quale saremo chiamati a mettere in campo parla delle nostre scelte sul quale anche come organizzazione ormai dobbiamo affrontare per tenere insieme le tante questioni che sono all'interno della confederazione e come ritrovare il senso di una nuova e rinnovata confederalità noi abbiamo la necessità che nel rispetto delle diverse opinioni e nel rispetto delle diverse posizioni non possiamo però trovarci di fronte al fatto così come è successo in ultimo sul terreno dell'accordo della sintesi e del testo unico che è un regolamento non è un accordo è un regolamento attuativo e applicativo è il testo unico perché mette insieme due accordi quello del 28 di giugno e quello del 21 quello del 21 di maggio ed è un testo unico su quello possiamo avere opinioni diverse possiamo queste opinioni si possono all'interno ma quando si fa sintesi quando l'organizzazione voglio dire assume che quello è il testo perché è un accordo interconfederale perché è un accordo interconfederale c'è bisogno che tutta l'organizzazione come da statuto voglio dire approva il testo e approva le conclusioni perché è un'organizzazione così ampia e complessa o ha delle regole e si dà delle regole oppure c'è un'altra cosa noi siamo diversi dalla CISL siamo la CISL siamo la confederazione e il tema della confederalità è il valore il sale sul quale questa organizzazione sta oltre il testo e il quale non accetta lezioni da recente perché? perché sul terreno dell'accordo le tante cose che anche qui ho ascoltato al di là del fatto che anch'io ritengo non giusto e non condivisibile azioni mettiamole così di difficoltà però non possiamo nemmeno cercarcele non possiamo essere nemmeno noi provocatori la dico così non è accettabile da un lato rispondere con un pezzo come si dice a spintori o altre cose ma dall'altro non possiamo nemmeno fare provocatori la dico così bisogna bisogna fare in modo che una volta che uno esprime una posizione però si accetta anche la volontà della maggioranza di questa organizzazione perché se noi dobbiamo ascoltare chi non la pensa per esempio come me c'è bisogno che però qualcuno rispetta anche la volontà di tanti che la possono pensare come me questo credo è una delle regole fondamentali sul quale non possiamo venire venire e l'accordo sulla rappresentanza divingerlo come se fosse un'altra cosa rispetto a quello che abbiamo sottoscritto il 31 è una roba forzata forzata perché il fatto che il 50% di uno dei lavoratori debba approvare un accordo di intesa questo l'abbiamo sempre detto ma vale così sarebbe strano e diverso che il 39% possa determinare il 70% il 69,1% è un principio un po' strano della democrazia e che timore abbiamo noi rispetto al fatto di dare il ruolo e la rappresentanza alle RSU quanto che tra sempre abbiamo detto che è il nostro investimento intorno al fatto che lì voglio dire sono i punti nostri di riferimento e sul quale da lì bisogna tornare a partire dai luoghi di lavoro glielo vogliamo dare un ruolo oppure è come dire una questione di messa perché si toglie perché si toglie alle categorie alle categorie parlo della contrattazione aziendale parlo del fatto che le RSU giorno dopo il giorno rispondono direttamente al bisogno di picchiere voglio dire da un punto di vista da un punto di vista del diritto del bisogno interno a quella a quella fabbrica e quando che parliamo di sanzioni non diciamo cose che non sono bene o meglio la dico così non abbiamo sopra scritto sanzioni come dire penali o pecuniari e per le RSU sono sanzioni legate alle agibilità sindacali ma sono anche le stesse sanzioni che riguardano i datori di lavoro io nella mia breve certamente con lunga storia sindacale ho sempre visto che non è sindacata non rispettare gli accordi ma sono i datori di lavoro e credo che questo sia un vantaggio per un'organizzazione sindacale seria che quando firma un accordo ne chiede l'esigibilità abbiamo sempre detto così e lo abbiamo sempre fatto in questa maniera e credo che questo accordo e che questo regolamento che oggi è in capo a compi industria e a compi servizi deve essere steso a tutti i lavoratori e le lavoratrici per questo non abbiamo fatto un'operazione macchia come si dice macchiavellica intorno alle questioni del voto del voto anche se anche se compagni e compagni noi abbiamo fatto votare un ordine del giorno dei congresti un ordine del giorno dei congresti che è di rallunga che è di rallunga rispetto a un emendamento che qualche categoria ha messo in campo contro il testo del 10 di gennaio in termini numerici in termini numerici però abbiamo accettato ulteriormente che lo facciamo con il circo villa di ritornare a fare una supply formative e luoghi di lavoro e per quello che ci riguarda come CGL a chiedere di nuovo il voto alle lavoratrici e lavoratori gli chiedono a tutti afferenti o non afferenti misurare la certificazione degli afferenti ma dare la possibilità anche a chi questo accordo ancora non ha sottoscritto per fatti datoriati dare l'opportunità di esprimere un giudizio questa se permettete è una grande infezione di democrazia è una grande infezione di democrazia sapendo di accettare e sapendo così dalle dichiarazioni che il segretario generale ha fatto di accettare quello che sarà l'esito di questo confronto e non non di dire io mi sento vincolato da quello che diranno una parte solo dei lavoratori qui è l'errore del compagno Zadini non può dire una cosa di questo lui è un uomo è un compagno dirigente della CGL e non di una parte della CGL e quando si dice che lui si sente vincolato solo dall'espressione di voto di quello che diranno i metali meccanici è un errore strategico mai fatto nella storia di questa organizzazione mai fatto una cosa possibile spero spero che poi alla fine però ci sia un sistema sul quale possiamo mettere insieme come dire in voto dei metali meccanici con il voto voglio dire anche di chiunione è metali meccanica anche perché non credo che ci sia un diritto primato di qualcuno rispetto ad un altro perché lo stesso valore rimango un lavoratore di un call center così come c'era una lavoratrice o un lavoratore il pubblico impiego per un altro diritto di votare dal punto di vista degli accordi che vengono sui questo è e allora dobbiamo fare chiarezza quando diciamo le cose e quando risolvere perché non c'è nessuna come dire nessun abuso non c'è nessuna estorsione tanto per essere chiaro non abbiamo estorto il modo a qualcuno ma c'è un campo una grande prova di democrazia questi sono gli aspetti che ci vedranno da qui appunto dicevo i prossimi giorni a riconvocare e chiedendo ai compagni e ai compagni uno sforzo straordinario in tutti i luoghi di lavoro riconvocare le assemblee le assemblee e chiedere il voto ai nostri ai nostri iscritti credo che questo congresso appunto parli anche di questo ed è legittimo quindi che anche su queste cose ci sia che ci sia voglio dire opinioni e confronti anche fra compagni e compagni per chiudere io ritengo e di questo ne sono profondamente convinto che quando che un congresso parla di noi parla anche del nostro sistema parla anche del nostro funzionamento parla del fatto che un congresso in qualsiasi posto dove viene celebrato o quantomeno viene svolto debba riconoscere ai tanti compagni e alle tante compagni che giornalmente quotidianamente si spendono per questa organizzazione sia in termini di tutela individuale sia in termini di tutela collettiva e che dia anche un pieno riconoscimento ai tanti compagni e alle tante compagni antiquiste di questa organizzazione non solo ai dirigenti ma chi giorno per giorno fa vivere la storia della CGL nei ruoli di lavoro nelle leghe nel territorio perché è così la nostra storia e perché è così quella che noi abbiamo ripetato perché è così la storia che noi credo abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ad altri che viene dopo di noi di continuare a fare grande la CGL grazie 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 La Commissione Verifica Poteri, composta da Giuseppe Sala, Daniela Meloni, Alessandro Teverniti, Luigi Cimino e Giovanni La Grazie, riunite 6-7-3-2014 nei locali dell'Utel Paradiso, verificata la regolarità dei verbali e la conformità a quanto comunicato dalla Commissione di Garanzia Territoriale, circa questi numeri, totale veritari assemblee 151, totale iscritti 28.328, totale votanti nell'assemblea 11.754, votanti del primo documento 11.691 che ha prodotto 181 delegati, votanti del secondo documento 56 che ha prodotto un delegato e verifica che il numero dei delegati è uguale al fatto del liberato comitato direttivo della CGL del 20 dicembre 2013, in base al rapporto iscritti delegati 1 ogni 170, operazione superiore a 80. Dichiara quindi valido il sesto congresso della CGL complessorica del vero momento. Grazie. La sudammo questo documento. Vi preannuncio che per quanto riguarda il documento finale è stato forse una grande immediatazione, soprattutto con alcuni. Allora per dovere di competenza, noi assumiamo due ordini del giorno, uno per quanto riguarda la questione per una lotta immediata e ferma contro il precariato nella pubblica amministrazione per la difesa dalla quantità e dalla qualità dei servizi, che noi abbiamo cercato di riassumere nel documento politico, ovviamente però poi il testo integrale lo assumiamo e lo mettiamo in gatti, così come abbiamo assunto l'ordine del giorno, l'ordine del giorno della Filtz, della Filtz di Catanzaro, ovviamente quello lo abbiamo, quello siccome non viene l'opertura perché lo abbiamo, come dire, simptizzato, questo concetto è venuto all'opportunità del documento, ma assumiamo quello dell'opertura per dargli il contenuto, ma che comunque lo facciamo l'operto come posizione politica. Allora, la CGL è la luce dei fatti occorsi ieri 6 maggio 2014, la teoria della Calabria ripadisce la vicinanza ai laboratori e aiutenti dei servizi di trasporto pubblico. La CGL ritiene indispensabile e incodrastinabile l'avventura di un confronto serio sulla problematica del trasporto pubblico e della sua sicurezza. La CGL ritiene che la tecnologia abbia fatto passi da gigante sulla sicurezza nei trasporti e nessuna amministrazione può esimersi di imporre, finanziare e ricercare sistemi sempre più capaci di dare errore nel trasporto di persone. In particolare, nel trasporto di ferrovia, trasporto che è più sicuro e ha meno impatto ambientale, si deve avere in campo tutto quello che la nuova tecnologia dà in termini di sicurezza ai sitenti e ai laboratori. Laboratori troppo spesso usurati da condizioni di servizio stressanti sotto l'affetto dell'attenzione e della responsabilità che a loro fa capo, senza nemmeno avere la tutta reproduzione, ma contratualizzata al minimo sindacale. La CGL chiede un intervento risolutivo sotto l'aspetto della sicurezza su tutto il trasporto pubblico della Calabria. Poi, sempre come commissione politica, assumiamo un documento, ma lo abbiamo anche per un certo consenso semplizzato, la CGL Medici, per quanto riguarda la profissione medica in Italia, tra il crollo dell'universalismo e l'ascesa del conervolismo. Aiardina, la vita dai chi? Detto questo, procedo alla lettura del documento finale politico riassuntivo e in un certo consenso che raccoglie tutte le questioni che ci siamo dentro. Allora, vado alla lettura, non vado veloce perché sennò non ci confediamo. Allora, il senso congresso provinciale della CGL Medici, da Già Roma Mezzi, nel marito del processo congressuale in vista del XVII congresso nazionale, ha registrato un altro da comunicazione di lavoratori e lavoratrici, ha leggendo giunto un'assemblea di basi, il piano votato 15.754 iscritti. Il congresso va proprio alla relazione del segretario generale per assumere le conclusioni del compagno Gianfranco Pattolini, della segreteria nazionale della CGL, che tenete i contributi a mai essere al dibattito in particolar modo, quello del segretario generale Michele Cavani, della CGL Calabria. La discussione sui due temi congressuali è stata accompagnata dall'intreccio tra i temi congressuali e la realtà che i lavoratori vivono nei luoghi di lavoro e tra i pensionati. Tra poco buon lavoro di pensionato che comunque non vedrà più. Le proposte e le scelte contenute nei documenti di lavoro decide il futuro, risultato assolutamente maggioritario a livello provinciale, impegnano l'insieme dell'organizzazione al rispetto dei pluralismi e in un quadro unitario a portare avanti la linea politica approvata dal congresso. Divento centrale in considerazione del particolare momento la difesa della libertà distanza, in quel senso il congresso piarsi col comportamento del prolevo di alcuni esponenti del mondo interditoriale calabresi e sostiene con determinazione il coraggio e la difesa della libertà di funzione del direttore dell'ora della calabria, Luciano Regolo, che con il suo comportamento è timidossamente rappresentato la calabria onesta e favoriosa che vuole riscattarsi dalla sudditanza, dai poteri forti e da una trageta. La difesa del diritto all'uomo, la riforma degli aglottizzatori sociali e tutte quelle iniziative utili e necessarie per cancellare la precarietà in tutte le sue espressioni sono gli obiettivi prioritari per i prossimi 4 anni, dall'impegno ad affermare con la massima forza e tenuto conto che la condizione occupazionale avuto riguardo di quella giovanile già grave a livello nazionale assume i caratteri drammatici nella nostra regione. Ritiene quindi l'ugente necessario richiedere un tavolo regionale di confronto evitamente tutte le istruzioni confederali e di categoria della funzione pubblica del PNC per garantire la completezza, la correttezza e la trasparenza dell'inserimento di punti precari nel previsto alvo regionale del precariato. Il Congresso ritiene appresì fondamentale la conquista di una legislazione sull'appresentanza e democrazia sindacale che garantisca il voto dei lavoratori, parte fondamentale della democrazia del Paese. L'accordo interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto il 10 gennaio 2014 rappresenta un punto di partenza per giungere un'efficiente regolamentazione della materia. Diventano centrali dell'agente politica e dell'istituzionale della nostra provincia e le politiche di migrazione in grado di far vivere la multietnicità che connotano la modernità non come un problema ma come condizione necessaria per mantenere in equilibrio la qualità sociale, civile e democratica del nostro Paese e della sua interesse. Ciò sarà possibile attraverso una decise di un sessante battaglia culturale a partire dai luoghi dove si producono i saperi e dentro il posto di lavoro in grado di sconfiggere quanti sono portatori di idee regressive e razziste. La Cicero intende costruire un fatto di collaborazione con tutte le associazioni di volontariato laico sul carrello dell'accoglienza e dell'integrazione. Intende potenziare l'attività dell'osservatore sulle politiche di genere e fare opportunità concentrando l'attenzione sulla comunità LGBT per una più efficacia e rotta da ogni forma di razzismo a fondo omofobo. In tal senso il Congresso assume gli ordini del giorno provati dalle categorie provinciali in cui viene richiesta la previsione delle norme che consentono di individuare il congetto matrimoniale per le lavoratrici di lavoratori omosessuali che vorranno contare matrimonio e istituti similiari nei paesi in cui è previsto. La Cicero Provinciale intende proseguire il lavoro in favore dei giovani in un territorio come il nostro, in cui mancano spazi e forme di aggregazione giovanile, conferire loro iniziative e discussioni attuative e certamente un passavanti per creare condivisione sui temi sociali proprio del sindacato. Legalità, rispetto delle donne e tutela e scura delle diversità sono parole che devono vivere il quotidiano devono essere praticate e trovare nei giorni il loro terreno di concorso. Il Congresso indica e promuove il potenziamento della politica confederale sul territorio quale strategia per dare un migliore slancio alla capacità della Cicero di essere vicina ai lavoratori e pensionati ed essere conseguentemente maggiormente in grado di dipendere e promuovere i diritti dei rappresentanti, dei cittadini, delle famiglie, dei giovani e dei migranti. Il potenziamento del welfare, della lotta all'inclusione sociale contro la povertà quale sul regione per uscire da risolamento e dalla solitudine per determinare una migliore coesione del cittadini sociale e contrastare così la disgregazione di ciò del Paese. Il sostegno delle denunce porta davanti alla CGL circa il progressivo depautamento professionale e strutturale del servizio sanitario nazionale. Ciò determina la comprensione professionale di operatori sanitari ed oltre mele esecutori di operazioni standard. Il tutto imprese contrasto con i principi ipocratici di tutela della salute e diritto costituzionalmente garantiti. Non può essere più accettato che le politiche nazionali e regionali continuano a creare condizioni di lavoro inaccettabili del servizio sanitario nazionale, favorendo le strutture private e quindi diventando presso di essi i diritti e i cittadini e gli operatori pubblici. I risultati di dare operazioni sono evidenti, le scarse rispetto del malato, le scarse efficienti del sistema pubblico ed evitazione dei costi. Maggiore diffusione dell'istruzione per adulti nelle zone interne della polizia, con maggiore attenzione a una formazione professionale coerente con le vocazioni del territorio. Oltre alle grandi opere, puntare su messa in sicurezza nel territorio dal punto di vista idrogeologico e risanamento ambientale del ciclo integrato dei rifiuti. Qualificazione di tutta la rete infrastrutturale energetica, della comunicazione e della digitalizzazione della pubblica magistrazione e del sistema collettivo della mobilità e delle persone, sia esso pubblico che privato. Previsione e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali dell'Avettino, mediante la creazione di un interforto regionale per un concorso e una movimentazione delle merci, messe in sicurezza degli edifici pubblici, a cominciare le scuole allocati in edifici fatti sceglie. Questo è il punto di sintesi che abbiamo tentato e ci siamo sforzati di dare con un documento politico molto simile. M. Inottimo se non c'è pazienza, cambiamo che ci sono stati dei problemi con l'administrazione elettorale e dobbiamo aspettare che… A questo è che cosa lo possiamo fare? No, non è, non è, non è. No, non è, non è... Cosa lo chiamo? Sono giusto il momento e il servizio politico, chi si è d'accordo, chi è al contrario, chi si astiene. E' passata la modalità. 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 E' passata. la modalità. E' passata la modalità. e 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 la modalità. Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. 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 a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. 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 , tutti. . . , . tutti. . . Vincenzo. . . ... . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . .